Buonasera a tutti io sono Gabriele Bellelli sono un investitore privato un trader e un educatore finanziario indipendente gestisco il sito bellelli.biz prima di iniziare ti chiedo un riscontro audio video quindi ti chiedo se senti correttamente la mia voce se vedi in modo nitido lo schermo che sto proiettando quindi la presentazione mentre diamo a tutti la possibilità di collegarsi purtroppo questa sera non tutti riusciranno a partecipare in diretta comunque dicevo mentre diamo a tutti la possibilità di collegarsi un paio di comunicazioni di servizio allora mentre sto parlando siamo in diretta ma sto contemporaneamente registrando per cui da domani mattina potrai rivedere la registrazione di questo video. Secondo aspetto se desideri ricevere la presentazione con le slide che illustrerò questa sera mi puoi scrivere una mail la trovi in calce a tutte le mie slide g.bellelli.biz e nei prossimi giorni mi farà molto piacere mandarti le slide tutto il materiale. Ok vedo che i riscontri sono tutti positivi per cui direi che possiamo eh assolutamente scusatemi eh possiamo partire eh tolgo la webcam così alleggeriamo la banda e magari limitiamo il numero di eh problemi che ci possono essere di collegamento. Allora dicevo benvenuto a questa videoconferenza eh intitolata ehm obiettivo entrata eh periodica l'idea alla base di questa eh videoconferenza eh è quella di individuare delle soluzioni di investimento che ti permettono che permettano al tuo patrimonio di fornire un'entrata eh periodica derivante da quelli che sono eh ad esempio le cedole eh delle obbligazioni dei fondi degli etf o dei eh certificati di investimento oppure dai dividendi delle azioni. Eh quindi l'obiettivo è quello di cercare di mettere a reddito il tuo patrimonio, i tuoi risparmi in modo tale che producano del denaro che ti possano aiutare in quelle che sono le tue spese della vita quotidiana o comunque in generale a raggiungere e soddisfare i tuoi obiettivi finanziari. Non ho parlato di obiettivi finanziari a caso perché alla base di tutto quello che noi diremo questa sera o più in generale alla base di tutto quello che è il discorso costruzione e gestione di un portafoglio finanziario c'è la pianificazione finanziaria personale. La pianificazione finanziaria eh è quel processo mediante il quale un investitore fa eh una selezione di quelle che sono le soluzioni di investimento più efficienti per fare in modo che il proprio capitale lavori per raggiungere l'obiettivo finanziario che si è prefigurato e ovviamente compatibilmente con quelli che sono i vincoli personali come l'ottica temporale oppure il grado di rischio. Per costruire una pianificazione finanziaria fondamentalmente servono sintetizzando al massimo tre elementi. Il primo è l'obiettivo finanziario, il secondo è l'ottica temporale, il terzo è il grado di rischio. Questa sera noi in tema di allora più in generale eh non ho specificato eh l'obiettivo finanziario in genere è identificabile in quattro aree. La prima area il primo diciamo così obiettivo a cui si può puntare è quello della conservazione eh sia in termini nominali che in termini reali cioè una protezione non solo eh immaginate oggi abbiamo cento molettina ne voglio avere cento molettine domani. Questa è la protezione nominale. Voglio anche proteggere in termini reali cioè il netto dell'inflazione. Quindi primo obiettivo conservazione in termini nominali e reali cioè il netto dell'inflazione. Il secondo obiettivo quello che vedremo questa sera è l'entrata periodica cioè fare in modo che il nostro capitale generi delle entrate periodiche. Il terzo obiettivo è quello di una somma nel futuro l'esempio classico è accumulare del denaro per anticipare l'età della pensione oppure per l'università dei figli. Oppure c'è il quarto obiettivo che è un generico diciamo così una generica rivalutazione un generico rendimento del portafoglio in genere la fase tipica dell'accumulo. Quindi fondamentalmente alla base di tutto c'è la pianificazione finanziaria. Questa sera andremo a focalizzarci ovviamente su quello che è l'obiettivo entrata periodica come dicevamo. Eh le entrate periodiche in genere sono un obiettivo finanziario, una necessità finanziaria che caratterizza numerose fasi del ciclo di vita di una eh persona. La vita di una persona è idealmente divisa in quattro cicli. C'è la prima fase, il primo ciclo che diciamo così intercorre dalla nascita fino al termine del periodo di studi. La seconda fase è quella in cui si inizia a mettere piede nel mondo del lavoro e eh diciamo così si costruisce la famiglia che significa la gioia di 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 far nascere dei figli allo stesso tempo però è la fase in cui eh si stipula anche il mutuo per l'acquisto della casa quindi tra mutuo e figli l'entrata periodica in questa fase è spesso molto utile. Poi c'è una terza fase che è la fase diciamo così dell'età adulta di una persona in cui si raggiunge l'apice della carriera lavorativa è la fase in cui quindi si raggiunge il massimo dello stipendio i figli magari sono già è cresciuto addirittura sono già sistemati il mutuo è estinto comunque siamo in fase di estinzione del mutuo per cui si tende a raggiungere il massimo della capacità anche di eh risparmio storicamente in genere durante questo terzo ciclo questa fase della vita generalmente l'obiettivo diventa quello della somma eh nel futuro quindi prevede di massimizzare eh l'accumulo in prospettiva ad esempio dell'età pensionistica quando ci sarà da colmare il gap pensionistico cioè la differenza tra eh diciamo così l'ultimo stipendio percepito è l'importo dell'assegno pensionistico che è tendenzialmente più basso rispetto all'ultimo stipendio eh in realtà purtroppo in questi ultimi mesi in questi anni di crisi eh in particolare proprio negli ultimi mesi no causa covid e lockdown molti italiani in realtà stanno vivendo la l'obiettivo entrata periodica come necessità anche in questa terza fase del ciclo di vita no è un è è una novità diciamo così delle dell'ultima fase storica che stiamo vivendo e poi c'è la quarta fase che è quella della pensione in cui fondamentalmente eh come accennavo è necessario colmare il gap pensionistico quindi la differenza no tra l'ultimo stipendio e l'assegno della pensione per cui spesso e volentieri è utile avere un'entrata periodica non solo eh generalmente no con l'avanzare dell'età poi possono sorgere necessità assistenziali no farmaci badante casa protetta per cui anche in questo caso l'entrata periodica aiuta quindi questa sera ci concentreremo nel nel discorso entrata eh periodica allora eh quello che eh cercheremo di fare è vedere tutte quelle che sono le soluzioni che sono gli strumenti per mettere a reddito il tuo patrimonio i tuoi risparmi compatibilmente col tuo profilo di rischio il taglio che daremo questa sera alla serata il taglio del buon padre eh di famiglia come lo chiamo io quindi quell'investitore che vuole ovviamente eh ottenere un risultato positivo in questo caso un'entrata periodica ma con un grado di rischio contenuto il grado di rischio basso o zero non esiste il minimo che possiamo fare il grado di rischio contenuto quindi questo sarà il dato eh partiamo da un altro aspetto che lo citiamo subito poi magari lo troveremo anche nel corso eh del della 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 serata in teoria per andare a ottenere un'entrata periodica sarebbe utile avere già accumulato un capitale quindi avere già un capitale alle spalle ad esempio ottanta centomila duecentomila euro da poter mettere a reddito a frutto però nella pratica capita spesso che eh fondamentalmente eh nella vita non si è ancora riuscito ad accumulare del denaro ma sorge la necessità di un'entrata periodica può essere il caso di chi termina no il periodo di studi inizia a entrare nel mondo del lavoro mette su famiglia nasce un figlio ecco che non ha ancora accumulato del denaro ma ha necessità di avere entrata ecco in tutti questi casi ovviamente ehm si fa di necessità e virtù e quindi si mette a reddito tutto quello che è il capitale disponibile ovviamente cercando di sforzarsi di riuscire a risparmiare qualcosa e a incrementare questo capitale nel corso del tempo quando si parla di entrate automatiche il sogno di ogni investitore no è quello di ricevere del denaro facile nel senso di ottenere del denaro senza fare fatica senza eh studiare una sorta di tutti ricchi subito e senza fatica purtroppo in realtà sui mercati finanziari questo sogno si trasforma spesso e in genere anche in breve periodo eh in un incubo ehm a volte questo è causa del dell'improvvisazione del risparmiatore che compra prodotti finanziari che non conosce e a volte invece eh è causa di eh imbonitori no di tutte quelle persone oggi è pieno il mondo del dell'investing italiano della finanza personale di persone che si autoproclamano eh i numeri uno della libertà finanziare delle entrate automatiche eh del guadagnare anche senza avere soldi senza avere un capitale è disponibile e c'è una bellissima frase no che vedete in sfondo anche in questo momento che io periodicamente faccio vedere una frase vecchia adattata la scritte la scrisse con l'Odino nel libro eh Pinocchio quindi siamo circa eh cos'è a fine ottocento quindi eh saremo circa centocinquanta anni fa però è una frase ancora eh assolutamente attuale dice vedete non ti fidare ragazzo mio di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera perché o sono matti o sono eh imbroglioni purtroppo molti investitori soprattutto quelli eh che non sono esperti che sono le prime armi diciamo così vengono attratti dalle sirene cadono vittime di questi eh imbonitori con la conseguenza che perdono un sacco di soldi purtroppo la realtà sui mercati finanziari è quella che è più facile perdere soldi che eh guadagnarli pasti gratis non ce ne sono per cui morale della favola per ottenere entrate periodiche eh occorre fondamentalmente studiare e quindi conoscere nei dettagli il prodotto finanziario conoscere la solidità dell'emittente e soprattutto andare a costruire una robusta pianificazione finanziaria personale quindi costruita con un abito di sartoria quindi cucita sulle esigenze della singola persona quali sono gli strumenti finanziari che permettono di ottenere un'entrata periodica in linea generale abbiamo tre tipologie abbiamo le obbligazioni che forniscono eh l'entrata periodica tramite eh lo lo stacco periodico di una cedola abbiamo lezioni eh quindi le società quotate che staccano periodicamente un dividendo quindi distribuiscono una parte degli utili e poi abbiamo eventualmente gli immobili l'esempio classico e compro un appartamento lo affitto ed ecco che quell'affitto che percepisco mensilmente diventa un'entrata periodica tutti questi tre queste tre forme diciamo così di soluzioni che ci permettono di ottenere un'entrata periodica possono essere diciamo così fonte di investimento o in modo diretto cioè compro l'appartamento compro l'obbligazione compro l'azione direttamente oppure le posso comprare tramite altri prodotti ad esempio tramite gli etf azionari oppure obbligazionari tramite io non sono un amante ma esistono anche questi i fondi comuni di investimento anche qui azionari e obbligazionari e e poi abbiamo i certificati di investimento uno strumento che esiste in realtà da qualche anno eh ma che è solo negli ultimi anni causa eh lo vedremo tra poco il venire a meno delle diciamo così delle entrate periodiche di strumenti a rischio contenuto come i titoli di stato è diciamo così entrato in auge quindi parleremo anche di certificati di investimento ovviamente ognuno di questi strumenti lo vedremo nel corso della serata presenta dei pregi e dei difetti l'investitore consapevole è quello che conosce tutti gli strumenti finanziari ne conosce le caratteristiche fin nei minimi dettagli è in grado di valutarne e comprenderne quelli che sono i pregi e quelli che sono i difetti e tramutarli all'interno ovviamente i pregi della propria pianificazione finanziaria cercando ovviamente la soluzione più efficiente per soddisfare l'obiettivo finanziario in genere l'obiettivo di questa sera dicevamo è l'entrata periodica a cui noi cercheremo di aggiungere anche diciamo così un'analisi di quello che è l'Oscar rischio rendimento cioè cercheremo in tutte le varie ehm casistiche questa sera di cercare di capire se quello strumento finanziario ehm diciamo così fornisce un'entrata periodica se la fornisce a condizioni di rapporto rischio rendimento favorevoli per noi altrimenti ovviamente se il rapporto non è favorevole è un prodotto che scartiamo e non lo inseriamo sicuramente in portafoglio allora un tempo eh investire con l'obiettivo entrata periodica era estremamente semplice si compravano dei titoli di stato si compravano di BTP si compravano eh degli immobili con l'obiettivo di affittarlo il gioco era fatto penso ad esempio ai miei genitori penso ai miei nonni no eh compravano BTP compravano un appartamento e cosa ottenevano? Ottenevano delle soluzioni di investimento assolutamente semplici sia da comprendere che da realizzare perché era semplice comprare un BTP come era semplice comprare un immobile e effettivamente nel passato entrambe queste soluzioni hanno dato buone soddisfazioni economiche a chi le ha ehm adottate oggi però le regole del mercato sono cambiate eh cosa è successo? È successo che eh i titoli di stato oggi offrono un rendimento e un flusso cedolare estremamente striminzito soprattutto sulle scadenze più brevi un rendimento nullo o addirittura eh negativo guardate qui in sfondo troviamo i rendimenti offerti dai titoli di stato italiani eh scusate europei eh troviamo due linee vedete la linea continua è la linea che rappresenta il rendimento dei titoli di stato tripla A quindi dei paesi delle nazioni che hanno il massimo grado di affidabilità mentre con la linea tratteggiata troviamo tutti i titoli di stato europei quindi non solo i paesi virtuosi come la Germania ma anche i paesi meno solide come l'Italia la Grecia come si legge questo grafico vedete nell'asse delle X troviamo gli anni cinque anni dieci anni quindici anni fino a trent'anni nell'asse delle Y troviamo il rendimento e qui già notiamo un aspetto vedete che la base è un rendimento negativo vedete meno 0 8 cioè vuol dire che è un rendimento negativo chi compra questo prodotto perde soldi invece che guadagnarne poi si arriva vedete allo 0 dove chi compra non guadagna e non perde fa pari e patta e poi vedete qui in alto nella parte superiore diciamo così abbiamo invece rendimenti positivi però vedete sono tutti rendimenti 0 virgola allora se noi guardiamo la linea continua che cosa troviamo troviamo abbiamo detto i titoli di stato tripla possiamo notare vedete che sulle scadenze brevi c'è un rendimento negativo dello 0 6 0 7 per cento che diventa vedete un rendimento praticamente 0 sulle scadenze 30 anni cioè praticamente i titoli di stato tripla hanno rendimento 0 su praticamente tutte le scadenze i titoli di stato generali quindi la media di paesi virtuosi e paesi meno virtuosi da ovviamente un rendimento più alto ma neanche troppo più alto perché se guardiamo anche qui vedete le scadenze fino ai dieci anni sono negative a partire dall'undicesimo passano in territorio positivo ma anche qui siamo su rendimenti molto striminziti vedete stiamo parlando di uno 0 7 circa sul sul tasso 30 anni sulla scadenza 30 anni quindi stiamo parlando di un asset fondamentalmente privo di rendimento per darvi ancora di più l'idea vediamo dei numeri no allora qui troviamo una selezione di titoli di stato di paesi europei quindi in euro quotati sui mercati italiani quindi quotatevo su boss italiana piuttosto che sull'erro tlx abbiamo vedete lo a t francese abbiamo il bund tedesco abbiamo il titolo di stato austriaco abbiamo la bay abbiamo e fsf che sono enti sovranazionali abbiamo varie scadenze vedete da quelle più brevi 20 21 quelle più lontane come 30 42 2050 in ogni caso che cosa notiamo che hanno tutti vedete il rendimento negativo questo tra l'altro rendimento lordo perché se noi dovessimo considerare le commissioni di acquisto l'imposta di bollo l'eventuale imposta sulle cedole incassate il rendimento sarebbe ancora più negativo rispetto a questo quindi il primo dato che emerge vedete abbastanza evidente i titoli di stato europei non sono sicuramente un asset oggi interessante dove di rotare il denaro se voi comprate uno di questi prodotti avete la certezza di perdere soldi quindi chi li ha in portafoglio farebbe bene a venderli la classica domanda che viene fatta è ma se io vendo questo prodotto dove investo ecco sono due cose diverse la prima domanda da porsi è conviene mantenere in portafoglio questo prodotto la risposta è no perché non conviene tenerlo perché il rendimento negativo cioè tu vendendolo oggi incassi oggi una quantità maggiore di denaro che incasseresti invece portando a scadenza quindi un po non so se vi ricordate il famoso detto è meglio l'uovo oggi o la gallina domani ecco hai l'intera gallina oggi e in più diminuendo anche il rischio perché hai l'intero ammontare di guadagno oggi e diciamo così anticipando quindi il periodo della scadenza quindi chi li ha in portafoglio vendere sicuramente chi li deve comprare beh assolutamente non conviene comprarli perché tu li compri ti rimborsa meno a scadenza corri il rischio tipico di ogni investimento può essere un rischio contenuto per carità sono tutti emittenti solidi quelli che troviamo qui ma è comunque un rischio per ottenere meno denaro tra qualche anno sicuramente non è una scelta logica qualcuno mi chiede in chat chi è che compra allora questi titoli belli compra chi è costretto ad acquistarli li compra ad esempio chi gestisce un fondo che gestisce una una polizia assicurativa una gestione separata cioè tutti quegli operatori che hanno un mandato ben preciso immaginate di essere il gestore di un fondo monetario un fondo monetario può comprare da diciamo così da 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 regolamento titoli di stato in euro con scadenza breve cioè pochi mesi e quindi volente o nolente anche lui sa che questi rendimenti sono negativi ma non può esimersi dal comprare non può comprare un'azione non può comprare un'obbligazione corporate ai dildo cose di questo tipo perché andrebbe a incorrere in sanzioni quindi è costretto a farlo ecco tutte quelle persone che sono costrette a farle oppure tutte quelle persone che non sono rimaste aggiornate con i tempi non si documentano non sanno far di conto quindi non sanno calcolare i rendimenti e sono rimasti al mondo di dieci venti anni fa quando cioè i bot e i btp offrivano effettivamente un rendimento racconto sempre l'aneddoto di un paio di anni fa ero a carpi stavo svolgendo una conferenza dove ero invitato a parlare e del mercato obbligazionario di fare una panoramica io come questa sera non facevo vedere una tabella con i titoli di stati italiani a con la tabella come quella che vediamo in sfondo questo momento dove facevo vedere che i rendimenti dei titoli di stato erano nulli o addirittura negativi nella prima parte della curva quindi sulle scadenze più brevi ed erano estremamente streminziti sulle scadenze più lontane mentre parlo alza la mano una persona in modo neanche troppo educato dice che non capisco niente lui ha usato un termine un pochino più colorito ma il concetto era quello dicendo che stavo raccontando delle bugie perché lui aveva appena comprato un btp che rendeva il nove per cento ovviamente non era possibile semplicemente questa persona non era culturata cosa aveva fatto aveva comprato vedete questo btp che vi sto sottolineando aveva preso il giornale aveva era andato nella sezione eh titoli di stato aveva guardato di fianco al nome btp qual era la cellula maggiore ha visto un nove per cento che in effetti vedete svetta rispetto alle altre cellule è andato in banca e l'ha comprato in banca non gli hanno detto nulla quindi lui è convinto di aver fatto un investimento al nove per cento e quindi mi ha contestato questa cosa io gli ho fatto vedere che sì era vero che lui incassava una cellula del nove per cento ma quella era la cellula non il rendimento perché se noi calcoliamo il prezzo di acquisto di cento ventotto calcoliamo la scadenza e il risultato vedete diventa un rendimento effettivamente negativo sia in termini lordi che soprattutto in termini netti quindi a volte c'è anche qualche persona che non sa fare di conto e quindi compra prodotti pensando di guadagnarci in realtà eh perde tornando un attimo i titoli di stati italiani vedete in quest'altra slide eh vi ho elencato una panoramica ancora più ampia questi erano i titoli diciamo così dei paesi virtuosi qui troviamo vedete una panoramica allargata sempre di titoli di stato europei eh vediamo che ehm degli ordinati vedete per rendimento da quello più negativo a quello più positivo per trovare un rendimento positivo vedete bisogna andare su eh Grecia su Bulgaria Romania eh Messico tra l'altro con scadenze molto molto pronunciate provate a guardare questo è un Messico che rende l'ordo sempre quindi occorrerebbe scremarlo da imposte tutto un tre ottantadue per cento scade nel duemila cento quindici pazzesco come duration e come durata abbiamo un Turchia eh che ha tutti i suoi problemi interni duemila e venticinque che rende un quattro ottantadue anche qui il rapporto rischio rendimento non mi sembra particolarmente eh propizio se noi guardiamo a casa nostra eh la situazione non è che migliori eh migliora un pochino se vogliamo perché i titoli di stati italiani offrono un rendimento insieme a quelli greci più alti rispetto alla media dei titoli di stato europei però comunque sono rendimenti ancora eh streaming city se noi guardiamo vedete le scadenze brevi questa è una ovviamente non sono tutti i BTP quotati e questa è una sintesi di alcuni vedete abbiamo fondamentalmente rendimenti netti nulli o negativi fino alle scadenze vedete duemila e ventisei duemila e ventisette quindi chi compra BTP con scadenza vedete fino al duemila e ventisette duemila e ventisette oggi perde soldi quindi anche qui il discorso è se li ho in portafoglio cosa faccio ti conviene venderli poi penserai a come reinvestirli ma come reinvestirli è un altro paio domani che è un'altra domanda a cui rispondere banalmente vendendo il BTP e mettendolo ad esempio su un conto deposito eh cito il conto deposito perché è lo strumento più semplice oltretutto è anche eh tutelato fino a centomila euro dal fondo interbancario ecco che ottieni già un miglioramento perché di fatto vai a ehm rendere più efficiente l'investimento guadagnando il rendimento offerto dal conto deposito ovviamente molto striminzietto ma sarebbe già comunque una miglioria rispetto a tenere un titolo di stato rendimento negativo in portafoglio perché non sai dove altro parcheggiarlo chi li vuol comprare non li compri perché non conviene ma vedete che eh sì il rendimento migliora ma se noi andiamo sul decennale dove è il duemila e trenta guardate qua abbiamo un rendimento netto dello zero quarantasette l'orto dello zero santa sette quindi stiamo parlando di rendimenti assolutamente asfittici assolutamente striminziti molto positivo per le casse dello Stato molto negativo per i nostri risparmi sia in termini di entrata cedolare che è l'obiettivo di questa sera ma sia in termini assoluti di rendimento non vanno meglio le cose vedete sulle scadenze più lunghe il duemila e sessanta sette eh c'è un titolo che ha quasi cinquant'anni di di vita davanti vedete che rende netto l'uno e quarantanove per cento eh sono rendimenti molto eh striminziti ma soprattutto sono rendimenti che oggi possono sembrare elevati per con un e mezzo per cento rispetto al rendimento negativo delle scadenze brevi potrebbe sembrare eh allettante ma in realtà se consideriamo che ehm un domani quando i tassi di interesse che oggi sono a zero riprenderanno a salire in una data futura ci vorrà sicuramente del tempo ma prima o poi i tassi risaliranno la storia è ciclica quindi anche i mercati finanziari lo sono ecco che allora magicamente al rialzo dei tassi corrisponde un ribasso del prezzo delle obbligazioni in particolare dei titoli a tasso fisso o delle obbligazioni zero coupon è maggiore la duration la vita finanziaria di un'obbligazione è maggiore sarà il ribasso del prezzo quindi chi oggi compra un BTP duemila e sessanta sette in un contesto di tassi in aumento si ritroverà incastrato per un lungo periodo fino al duemila e sessanta sette a un prezzo particolarmente alto subendo un depreciamento molto significativo delle quotazioni con un rendimento basso che non coprirà dall'inflazione quindi morale della favola oggi i titoli di stato europei o italiani non sono senz'altro un asset efficiente per andare a raggiungere il nostro obiettivo entrata periodica non va molto meglio al settore immobiliare chi ha appartamenti lo sa lo vive sulla propria pelle nel corso degli ultimi anni cosa abbiamo assistito abbiamo assistito a un generale ribasso del prezzo di mercato ovviamente ci sono eccezioni ci sono alcune zone che hanno retto alcune zone addirittura sono aumentate di prezzo ma sono l'eccezione perché sono zone specifiche esclusive in determinate città nella globalità del mercato immobiliare c'è stata una debolezza dei prezzi questo è il primo aspetto secondo le imposte sono tendenzialmente elevate poi c'è anche una sorta di incertezza fiscale aumenteranno queste imposte introdurranno una patrimoniale ne ha parlato anche l'altro giorno e cazzari che non è certo un politico di secondo piano reintrodurranno le tasse sulla prima casa quindi tasse elevate e diciamo così inserte nella sua evoluzione futura non dimentichiamoci che abbiamo assistito negli ultimi mesi negli ultimi anni in generale a un aumento degli inquilini che faticano ad arrivare a fine del mese quindi faticano a pagare l'affitto quindi c'è stato un aumento delle insolvenze no in più insomma c'è un generale soprattutto in questa fase storica difficoltà a accedere a mutui quindi le banche faticano erogare e credito se poi ci mettiamo negli ultimi mesi l'incertezza causata dal covid con la nascita diciamo così in Italia perlomeno dello smart working che sta mettendo un attimo in discussione quello che era il modello provate a pensare che aveva comprato appartamenti da affittare a uffici e oggi si ritrova che magari molte società che avevano diciamo così affittati ampi spazi magari un domani trasformeranno il loro business e passeranno uffici più piccoli perché la maggioranza magari dei lavoratori lavora direttamente da casa ecco lo smart working che ancora è in evoluzione non sappiamo esattamente quando il covid terminerà e quanti torneranno a lavorare quante società trasformeranno la loro struttura però io do già per scontato che lo smart working non prenderà forse piede come se lo immagina qualcuno ma sicuramente sarà una soluzione adottata da molte eh aziende quindi non tutti passeranno i smart working ma comunque secondo me rispetto ad oggi aumenterà sensibilmente questo dato questo vuol dire ovviamente che anche il mercato immobiliare si dovrà eh diciamo così adeguare a questa nuova esigenza quindi attenzione perché il mercato immobiliare ha parecchie criticità in questo momento storico quindi adesso qualcuno mi dice ma con l'immobiliare sei così pessimista allora ehm ovviamente non sto dicendo che è impossibile eh investire riuscire a guadagnare sul mercato immobiliare dico solo che semplicemente oggi è molto complesso cioè mentre nel passato anche mio nonno con la terza media anzi neanche con la quinta elementare comprava un appartamento lo affittava o dopo qualche anno lo rivendeva ed era capace quindi non servivano competenze particolari bastava semplicemente avere due lire eh oggi invece le eh la situazione è decisamente complessa e secondo me non è alla portata eh di tutti non è alla portata soprattutto di chi si improvvisa un mercato molto maturo molto complicato e oggi secondo me per affrontare il mercato dell'immobiliare deve avere intanto competenze molto elevate secondo devi avere capitali importanti anche perché il rischio di restare incastrati non è banale e poi devi costruire una squadra di lavoro oggi da solo non riesci a svolgere questa attività devi avere quindi una squadra con l'architetto il geometra le imprese deal il notaio l'agenzia immobiliare cioè devi avere tutta una serie di ehm di ingranaggi che devi mettere insieme nel corso eh degli anni che formano una squadra eh e non è banale da organizzare quindi insomma non non mi sembra un'idea eh idonea ad ogni investitore ok quindi dopo aver capito che ieri investire per avere un'entrata periodica era relativamente semplice e oggi non lo è più perché sono cambiate le regole del del gioco la parola gioco non mi piace abbinate ai mercati finanziari ma passatemi il termine cerchiamo adesso di capire no quindi di fare il punto della situazione passando in rassegna tutte le varie tipologie di prodotti finanziari per cercare di descriverne no le caratteristiche pregi difetti rendimenti in modo tale che si riesca a fare una panoramica completa di quello che è lo stato dell'arte in termini di entrate periodiche partiamo dall'obbligazionario in parte l'abbiamo già trattato con i titoli di stato italiani ed europei però cerchiamo di entrare un attimo di più nel dettaglio quindi l'obbligazione sarebbero in teoria lo strumento principe no della pianificazione finanziaria perché sono l'unico strumento finanziario sottolineo l'unico strumento che ti permette davvero di personalizzare il portafoglio abbiamo detto prima che il portafoglio deve essere costruito con un abito di sartoria no quindi in base all'obiettivo finanziario l'ottica temporale al grado di rischio si va a personalizzare il dato ok ecco le obbligazioni sono l'unico strumento che ti permette di modulare le scadenze compatibilmente con la tua ottica temporale proprio per il fatto che le obbligazioni hanno una scadenza che tu puoi selezionare in funzione delle tue necessità in più prima ancora di comprarle puoi fare dei calcoli matematici e quindi puoi calcolare il rendimento e poi calcolare il reddito dove per reddito si intende il flusso cedolare e quindi se il reddito e il rendimento sono soddisfacenti li puoi acquistare e mettere in portafoglio altrimenti se non sono soddisfacenti oppure non sono efficienti per la tua pianificazione finanziaria li escludi ecco dicevo le obbligazioni sarebbero lo strumento principe purtroppo come avete visto prima mentre nel passato erano lo strumento da privilegiare lo zoccolo duro perché cercava entrate periodiche oggi sono uno strumento in grossa difficoltà perché non offrono più i rendimenti e il reddito cioè il flusso cedolare che veniva erogato fino a una decina d'anni fa quando si parla di obbligazioni bisogna distinguere bisogna distinguere in base all'emittente e in base alla valuta l'emittente può essere un titolo di stato oppure può essere un corpore cioè un emissione emessa da un'azienda privata eni coca cola fiat sono tutti esempi di obbligazioni corporate ovviamente perché questa distinzione va fatta perché ovviamente ci sono dei gradi di rischio i titoli di stato sono tendenzialmente più sicuri mentre le obbligazioni corporate sono ovviamente emesse da emittenti generalmente meno solidi meno traballanti in più bisogna ragionare anche in termini di valuta perché sono obbligazioni in euro e quindi non ci espongono a nessun rischio sono quello del default dell'emittente altre obbligazioni magari sono denominate in valuta estra come in dollaro sterline inglese oppure le varie valute emergenti no lira turca eccetera ovviamente se noi compriamo in euro non è un problema perché l'euro è la moneta con cui facciamo una spesa paghiamo le tasse quindi la valuta della nostra vita quotidiana se noi compriamo un titolo invece una valuta estra andiamo incontro al rischio cambio cioè se noi compriamo delle obbligazioni dollari e il dollaro si rivaluta guadagniamo se il dollaro si svaluta nei confronti dell'euro andiamo a subire una perdita quindi lavorare sulla valuta estra significa correre un rischio quindi sono tutti elementi da considerare quando si parla di obbligazioni diciamo così con lo specifico obiettivo di avere un'entrata periodica ecco che i criteri di selezione sono importanti sono importanti in generale ma soprattutto quando dobbiamo focalizzarsi su un obiettivo ben specifico in questo caso l'obiettivo è l'entrata periodica quindi è banale da dire ma bisogna che l'obbligazione paghi una cedola quindi gli zero coupon che sono le obbligazioni che non pagano cedole lo dice la parola zero coupon cioè zero cedola sono da scartare a prescindere potrebbero offrire anche rendimenti interessanti ma se il nostro obiettivo è l'entrata periodica li dobbiamo scartare perché non sarebbero efficienti per la nostra pianificazione quindi scartiamo tutto quello che è senza cedola primo aspetto secondo aspetto in questa fase storica anche le obbligazioni tasso variabile sono da scartare perché perché sono tutte obbligazioni indicizzate o all'inflazione che è estremamente contenuta oppure all'Euribor l'Euribor a valore negativo meno zero cinquantuno circa e quindi fondamentalmente sono obbligazioni che non pagano cedole quindi morale della favola oggi quando si parla di obbligazioni il primo criterio della cedola è quello del tasso fisso quindi orientarsi su obbligazione tasso fisso questa è la prima caratteristica la seconda caratteristica è banale ma va sempre ricordata e prestare attenzione alla solvibilità degli emittenti cioè comprare obbligazioni emesse da emittenti solidi perché sottolineo questo aspetto primo perché in generale c'è un generale ehm una generale sottovalutazione di questo rischio eh il rischio ehm insolvenza è percepito come un qualcosa di lontano da me ma in realtà è un qualcosa di abbastanza eh persistente soprattutto eh nelle fasi storiche recessive perché quando abbiamo una situazione di crescita economica allora diciamo che il vento ti spinge e quindi anche le aziende traballanti riescono più o meno a tenere botta al contrario invece quando siamo in una situazione di recessione come quella che stiamo vivendo oggi di difficoltà economica ecco che il tasso di eh insolvenza aumenta quindi attenzione perché in questa fase storica l'assolvibilità di un emittente va controllata più e più volte questo è un aspetto fondamentale poi occorre valutare il rendimento che è diverso dalla cedola che deve essere positivo sia in termini nominali che in termini reali cioè al netto dell'inflazione diciamo ovviamente una formula matematica apposita per calcolare il rendimento reale e poi valutare anche la valuta se vogliamo correre questo rischio e dopo ne parleremo se noi vogliamo focalizzarci su quelle che sono le obbligazioni corporate in euro quindi obbligazioni emesse da aziende e non più da stati gli stati li abbiamo già descritti prima non sono particolarmente interessanti in questo momento storico quelli in euro vediamo quindi il corporate aziende private questa è la panoramica una selezione allora che cosa notiamo beh notiamo che qui rispetto a prima qualche rendimento più elevato lo troviamo qualche flusso cedolare più elevato lo troviamo troviamo un 5 un 4 e mezzo un 3 75 un 7 75 un 3 quindi rendimenti cedolari reddito cedolare diciamo così più elevato anche il rendimento lordo e quello netto nelle prime posizioni tendono a essere più alti a prima vista uno potrebbe dire beh abbiamo trovato la quadra del cerchio non compriamo titoli di stato ma compriamo sempre obbligazioni che sono la print il principe no della pianificazione ma di obbligazioni corporate detta così è semplice purtroppo però se uno va a analizzare la situazione di questi emittenti che cosa scopre scopre che quasi tutti questi non tutti ma una buona fetta di questi non hanno rating cioè non si sono fatti analizzare i conti quindi non hanno chiesto il rating rating non è un obbligo e quindi queste aziende si sono ben guardate dal dal chiederlo in più molte di queste aziende adesso non facciamo nomi però sono aziende che hanno una situazione debitoria importante penso ad esempio a carraro sono aziende magari penso ad esempio i vs che hanno utili che hanno sono aziende leader in italia e nei primi posti in europa che però stanno soffrendo in questo momento particolare causa lockdown i vs se non la conoscete quella dei distributori automatici di bevande di merendine che troviamo nelle stazioni dei treni nelle come si chiamano nel negli aeroporti no quella dove metti la monetina ti dà la bottiglietta d'acqua lo snack o cose di questo tipo in italia sono leader un'azienda che ha degli utili però ovviamente causa lockdown la gente gira molto meno rispetto a prima quindi di conseguenza consuma meno eh abbiamo autostrade sulla carta potrebbe essere anche una buona soluzione ma in realtà sappiamo tutti la situazione che eh c'è in questa eh in questo braccio di ferro no con il governo eccetera no revoca sì revoca no ci accordiamo eccetera no eh quindi insomma morale della favola eh in realtà ehm questi rendimenti particolarmente eh interessanti se noi li andiamo a analizzare alla luce del rapporto rischio rendimento non sono particolarmente allettanti perché spesso e volentieri secondo me è maggiore il rischio rispetto al rendimento potenziale eh nell'ultima parte addirittura vedete le obbligazioni UBI sono tutte con rendimento netto negativo quindi queste non sono neanche da prendere in considerazione quindi insomma morale della favola anche tra le obbligazioni corporate in euro purtroppo non troviamo ehm molto interesse perché il rischio specifico cioè di comprare un'obbligazione a due e di andare incontro a un default non è eh banale per cui fondamentalmente magari si può fare stock picking per carità posso comprare un IWS posso comprare un'obbligazione non so della Renault per carità però in linea generale ecco starei molto più attento perché è un asset sicuramente pericoloso se proprio volessimo lavorare sulle obbligazioni corporate come possiamo eh gestire queste posizioni no? Che strategie possiamo utilizzare? Beh possiamo sicuramente fare i cassettisti quindi adottare un approccio statico quindi compro e mantengo in portafoglio fino a scadenza ovviamente periodicamente devo andare a verificare l'assolvibilità e degli emittenti appena qualcosa non torna ad esempio il prezzo crolla provate a immaginare una situazione in cui ehm nella tranquillità generale del mercato obbligazionario un titolo oppure una serie di titoli collegati a uno specifico emittente crollano un bel giorno quotano 100 il giorno dopo crollano 90 intorno il panorama obbligazionario è rimasto immutato quel singolo emittente quel giorno è crollato cioè il prezzo di quelle obbligazioni magari anche dell'azione se è quotata sono crollate ecco quelli sono campanelli che devono far drizzare le antenne quindi va bene fare il cassettista però un cassettista che si documenta e che segue gli investitori gli investimenti e appena nota puzza di bruciato esce dal titolo molto meglio lasciarci la mano quindi ho comprato l'obbligazione al 100 e la vendo a 90 nel dubbio piuttosto che tenere e sperare che sia un falso segnale no sperare non è una strategia di investimento no quindi dal punto di vista operativo se un titolo crolla nella tranquillità generale quel titolo vendetelo poi siete sempre in tempo per ricomprarlo però nel dubbio meglio per prendere una piccola perdita subito che restare incastrati a lungo con una situazione magari in questo caso di rischio default eccetera oppure ci sono le strategie attive dinamiche che sono quelle che in realtà io tendo a consigliare generalmente cioè io compro un titolo lo mantengo in portafoglio però periodicamente cerco di ottimizzare il rendimento cosa vuol dire vuol dire che cerco delle obbligazioni gemelle o delle obbligazioni simili con cui fare dei cambi di cavallo quindi vendo l'obbligazione con il portafoglio per comprarne una simile magari dello stesso emittente con una scadenza simile ma che mi offre un rendimento maggiore questo significa ovviamente seguire maggiormente i mercati finanziari ad essere più eh presente un'alternativa sempre in tema di obbligazioni per andare a cercare qualcosa in più come flusso cedolare e come rendimento è quella delle obbligazioni in valuta estera qui però attenzione diventa estremamente importante la selezione perché perché corriamo il rischio valuta bisogna assolutamente limitare o meglio eliminare gli altri rischi perché già prima se vi ricordate abbiamo detto abbiamo il rischio default che è l'unico rischio che noi possiamo solo limitare e gestire con la diversificazione l'informazione eccetera ma è l'unico rischio del mercato obbligazionario che non possiamo purtroppo eliminare completamente quindi già qui non abbiamo il rischio cambio ma abbiamo il rischio default qui attenzione perché andiamo in valuta estera quindi aggiungiamo il rischio valuta estera quindi che cosa dobbiamo fare beh innanzitutto i criteri devono essere più stringenti ancora quindi che cosa possiamo fare beh innanzitutto per quanto riguarda l'emittente stare esclusivamente su investimenti scusatemi emittenti con un buon pedigree quindi investimenti con un rating investment grade quindi solvibili già corriamo il rischio cambio valutario non corriamo anche il rischio emittente cioè non corriamo il rischio default primo quindi la qualità dell'emittente indispensabile conviene stare in genere su titoli di stato o enti equiparati come ad esempio la bay la liquidità è fondamentale le obbligazioni in valuta estera devono essere molto molto liquide molto molto scambiate tutti i giorni questo perché perché dobbiamo evitare quello che viene chiamato rischio liquidità cioè il rischio di rimanere col cerino in mano dovete sapere che quando voi volete comprare un'obbligazione c'è la fila per vendervela quando però quell'obbligazione comincia a scottare perché magari l'emittente comincia a essere percepito come poco sicuro state pur tranquilli che i compratori spariscono e quindi restate col cerino in mano a quando la comprate abbiamo detto c'è la fila quando è ora di scappare dal titolo non c'è nessuno che ve la compra restate col cerino oppure c'è qualcuno che ve la compra ma vi vi applica diciamo così vi propone un prezzo particolarmente svantaggioso quindi onde evitare questo rischio obbligazioni sempre molto liquide molto scambiate poi attenzione anche la tassazione oggi c'è una grossa differenza a livello di imposte sui mercati finanziari perché perché i titoli di stato di enti equiparati sono tassati al 12 e mezzo per cento mentre invece le obbligazioni corpore sono tassate al 26 se ci pensate il 26 è più del doppio rispetto al 12 e mezzo quindi anche questo è un aspetto che è importante da sottolineare quindi considerando che i titoli di stato di enti equiparati sono tendenzialmente più solidi e hanno una fiscalità meno onerosa un 12 e mezzo per cento invece del 26 ecco che vi conviene privilegiare le obbligazioni emesse da titoli di stato enti equiparati prendete due piccioni con una fava maggiore sicurezza e minore impatto delle tasse poi ovviamente dovete analizzare che cosa il reddito cioè il flusso cedolare la vostra entrata periodica e il rendimento ovviamente il rendimento deve essere positivo e l'entrata periodica cioè il reddito deve essere soddisfacente per andare effettivamente a realizzare il tuo obiettivo finanziario quindi ti deve procurare quel denaro che ti serve per arrivare ad esempio a fine mese o a colmare il gap pensionistico in più è importante anche valutare l'ottica temporale che deve essere sempre compatibile no con la tua pianificazione finanziaria uno degli errori più gravi che viene compiuto sui mercati finanziari ne ho parlato anche proprio questa mattina mi ha chiamato un giornalista adesso lei carlino per una breve intervista sui mercati finanziari e tra le varie cose di cui abbiamo parlato c'è stata anche proprio quella che in questa fase storica dove molti investitori torniamo ad esempio all'esempio di prima dei btp no proviamo a prenderli no eccoci qua molti investitori vedono che sulle scadenze brevi non c'è rendimento che cosa fanno fanno il passo più lungo della gamba cioè comprano un btp con scadenza lunghissima con una scadenza superiore la propria ottica temporale io ho un ottica temporale di dieci anni cioè vuol dire che per dieci anni potrei comprare quell'obbligazione portare la scadenza senza dover rivenderla in anticipo mentre magari un 2067 mantenere in portafoglio fino a scadenza diventa arduo stiamo parlando di quasi 50 anni io auguro tanta vita tutti però mio figlio sarà quasi 50 anni avrà 43 anni quando scade quell'obbligazione oggi ne ha tre quindi voglio dire è un lasso di tempo molto prolungato è un passo troppo lungo qual è il rischio quello che dicevamo prima che i tassi aumentano tu resti incestrato a lungo con un prezzo alto un forte depreciamento del prezzo un rendimento che non ti copre l'inflazione quindi mai fare il passo più lungo della gamba comprare sempre solo prodotti finanziari che sono compatibili con la tua ottica temporale che li puoi acquistare e portare a scadenza questo è fondamentale perché oggi ripeto vedo molti investitori invece che fanno il passo più lungo della gamba adesso è tutto tranquillo ma attenzione perché quando torneranno a salire lo spread o aumenteranno i tassi saranno cavoli amari quindi comunque con queste precauzioni con questi criteri di selezione che cosa possiamo andare a fare possiamo andare a occuparci di obbligazioni in valuta estera la prima valuta estera ovviamente da considerare è il dollaro il dollaro è la valuta per eccellenza mondiale prima ancora delle euro e quindi sicuramente la prima valuta estera da analizzare qui troviamo una schermata qui vedete che dei flussi cedolari quindi del reddito chiamiamolo così elevato lo cominciamo a trovarlo abbiamo dei 6 e 75 5 e mezzo 8 6 e mezzo 5 7 4 eccetera troviamo anche vedete dei rendimenti più elevati rispetto all'area euro che abbiamo visto prima però attenzione se noi andiamo a vedere che cosa troviamo troviamo degli emittenti che hanno qualche difficoltà che non hanno rating particolarmente brillanti non troviamo noi cani di razza diciamo così con un buon pedigli troviamo i bastardini no per cui questo è un aspetto da considerare anche qui quindi siamo di fronte al problema che avevamo prima i rendimenti più allettanti i flussi cedolari più allettanti sono quelli emessi dalle obbligazioni traballanti e quindi dobbiamo necessariamente vedete questo è un esempio vedete questi sono i primi posti della classifica di prima no questa è la zoomata rispetto all'immagine di prima no per darvi un'idea maggiore vedete pemex petrolio messicano un'azienda partecipata anche dello stato messicano ma è in difficoltà un'azienda indebitata un'azienda che risente della contrazione del prezzo del petrolio per cui un'azienda che oggi è in difficoltà fallisce no per carità non è detto che fallisca ci mancherebbe altro io le ho in portafoglio però sicuramente un'azienda da tenere è monitorata come occorre tenere monitorato ad esempio le evoluzioni della Ford l'evoluzione della Goodyear le evoluzioni di Telecom di General Electric eccetera 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 no ricordatevi che tutti sono sempre colpiti quando avviene un default però prima che arrivi tutti figurati se figurati se quell'azienda può fallire in realtà negli ultimi anni se noi chiudiamo gli occhi sono fallite tante aziende pensiamo ad Astaldi pensiamo a Portugal Telecom pensiamo a Wirecard il caso più eh recente ma ci sono tanti casi eh Argentina Cirio Parmalat no se ci mettiamo lì e concentriamo un attimo diventano veramente tanti eh i casi di obbligazioni quotate sul mercato italiano che sono andate a gambe eh all'aria quindi attenzione questo vale anche per il mercato americano è un mercato molto più dinamico per cui eh le insolvenze ci sono se noi scrimiamo questa lista andando a togliere gli emittenti più traballanti e andando a cercare le soluzioni più sempli più sicure meno pericolose mettiamole in questi termini che cosa troviamo beh troviamo un bel Italia un bel titolo di Stato in dollari volendo che però offre un facciale del 538 rendimento lordo del 2 e 62 oppure troviamo delle altre obbligazioni vedete messe sempre in molti casi d'azienda italiana vedete abbiamo Mediobanca abbiamo Unicredit abbiamo eh una intesa una Imi se non la trovo ma c'è la penultima eh abbiamo eh Toyota abbiamo Citigroup Goldman Sachs quindi abbiamo vedete qui delle aziende in realtà con dei pedigree che sono sicuramente decisamente più elevati e più interessanti rispetto a prima sono tutte obbligazioni vedete che pagano una cedola in molti casi vedete sono obbligazioni step up quindi che pagano cedole crescenti anno dopo anno la prossima cedola del quattro per cento poi l'ultima cedola nel duemila e ventiquattro sarà del cinque e mezzo ovviamente le compriamo a un prezzo superiore a cento vedete non c'è nulla sotto la pari però vedete abbiamo dei rendimenti che sono già un un filo più alti rispetto a quelli che troviamo sul mercato italiano e abbiamo dei flussi cedolari un po' più alti ovviamente abbiamo sempre l'incognita del dollaro però già questa potrebbe essere in alcuni casi per certi portafogli una prima soluzione non l'unica però sicuramente per un investitore che si sente di assumere il rischio valuta estera e quindi che ha un grado di rischio medio alto ecco che sicuramente qualche obbligazione selezionata in dollari potrebbe essere interessante da mettere in portafoglio dopo vedremo quali precauzioni prendere oppure e qui alziamo però significativamente il grado di rischio quindi qui entriamo nell'ottica solo degli investitori che hanno un grado di rischio alto cioè che hanno la possibilità di inserire in portafoglio anche obbligazioni rischiose rischiose non per l'emittente perché se guardate questi emittenti sono tutti bei o sudafrica quindi titoli di stato o enti sovranazionali quindi sono tutte realtà ehm diciamo così solide e solvibili ma attenzione però perché sono in valuta ballerina questa è la valuta del sudafrica qui però vedete che trovate dei rendimenti cedolari elevati e trovate anche dei rendimenti eh elevati qui le ordinate vedete per scambi perché una criticità spesso e volentieri delle obbligazioni in valuta emergente è che non tutti eh i titoli sono liquidi sono eh bene scambiati quindi qui ve li ho ordinati in funzione della liquidità poi ovviamente queste eh slide ve le potete pur guardare c'è la registrazione se mi chiedete le slide ve le mando volentieri quindi eh da questo punto di vista adesso andiamo a veloci però è in dato di fatto che vedete avete un po' di scelta c'è la lira turca molto pericolosa in questo momento dopo vediamo come è possibile affrontarla però anche qui troviamo vedete rendimenti cedolari molto molto alti un nove venticinque un dodici un otto e settantacinque un dieci e mezzo di flusso cedolare con rendimenti vedete assolutamente interessanti otto dieci dodici per cento lordi eh meno scelta ma anche qui comunque sempre eh interessante eh a livello di distribuzione e di rendimento senz'altro più elevato rispetto all'Italia il discorso della moneta brasiliana eh qui vedete che la selezione è più ristretta rispetto alle altre nel senso che in questo momento sono quotate meno obbligazioni in real brasiliano rispetto alle altre valute in questo momento ma magari fra qualche anno eh tornano a fiorire in questo momento quindi la selezione è ristretta anche qui vedete le ordinate per quantità media quantità media vuol dire quanto scambiano quindi in cima trovate l'obbligazione più liquida più scambiata in fondo trovate quella meno liquida e meno scambiata poi abbiamo scusate mi sono andati il rublo quindi la valuta russa e poi anche qui vedete abbiamo dei rendimenti eh importanti e poi abbiamo ehm la valuta ehm messicana anche qui vedete rendimenti lordi e cedole sicuramente più interessanti e più elevate a questo punto però giustamente qualcuno potrebbe dire beh interessante il discorso delle valute emergenti interessante perché effettivamente pagano cedole pingui quindi entrate periodiche importanti offrono rendimenti sicuramente eh interessanti sicuramente positivi in termini reali cioè proteggono anche dell'inflazione però c'è un però grosso come una casa c'è il cambio valutario cosa posso fare per affrontare il cambio allora abbiamo varie strategie la prima è quella di eliminare il cambio valutario cosa faccio vado ad attivare una copertura quindi ad esempio vado a utilizzare le opzioni vado a utilizzare il vado ad utilizzare le valute spot ad esempio sul forex quindi compro un'obbligazione in dollari vado corto sul dollaro e in questo modo anestetizzo le posizioni è chiaro che se lavoro sul dollaro coprire il rischio è semplice se vado a lavorare su valute emergenti il discorso si complica però teoricamente il discorso cambio è eliminabile uno potrebbe decidere se eliminarlo del tutto quindi coprirlo al cento per cento in modo parziale questo è un altro discorso però la possibilità di coprirlo c'è posso però adottare un'altra soluzione che è quella di limitarlo come faccio utilizzo un conto in valuta il conto in valuta non elimina il rischio cambio lo congela quindi io apro ad esempio su fineco su bink che sono le principali banche che ti permettono di avere conti in valuta estra soprattutto bink è dotata anche di sottoconti in valuta emergenti quindi compro ad esempio delle obbligazioni in dollari le metto sul conto ad esempio di fineco di bink quello che è in dollari in quel momento io vado a congelare il cambio le cedole che incasso vanno direttamente lì dentro poi ci sarà un momento in cui io magari deciderò fra qualche anno fra qualche mese quando lo ritengo opportuno vendere e convertire quel denaro da dollari euro ma lo farò quando ritengo opportuno cioè quando mi serve oppure quando lo reputo favorevole a livello di cambio finché il conto è operativo e finché lì dentro ho le obbligazioni in dollari mi entra liquidità e le cedole intendo delle obbligazioni in dollari io sono tranquillo e congelo il cambio in questo modo evito di correre il rischio cambio e evito di diciamo così subire lo spread del cambio a ogni cedola incassata perché altrimenti se non ho il conto in dollari cosa succede che io incasso l'obbligazione incasso scusate la cedola dell'obbligazione in dollare la mia banca me la traduce automaticamente in euro e me li mette sul conto questa operazione ha dei costi a uno spread b de as che tra euro e dollaro quindi sono costi che alla lunga incidono se io metto tutto dentro in dollari non avviene questa conversione sono tutti soldi che risparmio soprattutto sul lungo periodo quindi conto in valuta per chi lavora sulle obbligazioni in valuta estra oggi secondo me è obbligatorio da utilizzare conviene assolutamente è vero non elimini il rischio però lo gestisci però lo limiti e non è poco e contieni i costi in più c'è un altro aspetto da considerare è vero che le valute estere sono un rischio per carità ma possono diventare anche un'opportunità cosa voglio dire voglio dire che seguendo i cambi o i cross valutari io posso stabilire dei momenti in cui conviene essere investiti in euro appunto perché l'euro è forte rispetto a un'altra valuta oppure posso ipotizzare che invece si siano cambiati i ruoli quindi l'euro è diventato debole nei confronti di una valuta estera e quindi in quel caso comprare un'obbligazione in quella valuta estera è utile perché io vado a guadagnare non solo dal punto di vista dell'obbligazione quindi col rendimento col flusso sedolare ma guadagno anche dal cambio valutario non solo volendo è vero che corrono rischio cambio ma magari perché vado appositamente a comprare quell'obbligazione valuta estera senza coprirmi in questo caso quindi il rischio lo assumo appositamente rischio cambio però attenzione però perché questo rischio cambio viene almeno in parte è mitigato dal rendimento e dalla cedola offerta da questa obbligazione quindi è come investire su una valuta estera con un piccolo paracaduto offerto dal rendimento della nostra obbligazione come si fa a far passare una valuta estera da rischio oppure opportunità beh ci sono varie strategie c'è una strategia che possiamo chiamare statica e c'è una strategia che possiamo chiamare dinamica passiamo da partiamo dalla strategia dinamica si prende quella più quella in realtà più più semplice secondo me tra le due in realtà c'è da seguire di più rispetto a quella statica lo dice il termine la strategia attiva strategia dinamica vuol dire che bisogna comprare vendere le obbligazioni in valuta estera con una certa frequenza a seconda di quelle che sono le mutate condizioni di mercato però è anche quella potenzialmente forse più remunerativa quindi c'è da lavorare un po di più e c'è da guadagnare anche un po di più ovviamente sulla carta dicevo e anche nella realtà secondo me è quella molto semplice ma spesso volentieri per applicarla non servono strategie molto complesse per carità si possono creare delle strategie complesse ad esempio penso sull'euro dollaro ad esempio si può analizzare il cot report no il cot report e in base a quelli che sono gli scambi dei commercial eccetera andare a decidere di investire in dollari piuttosto che rimanere in euro analizzare il cot report però può essere già più complicato e anche solo trovare i dati elaborare nei grafici eccetera potrebbe non essere alla portata di ogni investitore invece ci sono delle strategie trend follower che soprattutto sulle valute emergenti come l'ira turca la moneta brasiliana la moneta russa eccetera funzionano molto bene e sono strategie che semplicemente ti permettono di individuare il trend in essere sui prezzi no sul cambio oppure sul cross il cambio euro dollaro tutti gli altri sono cross e cioè pratica il cambio è dollaro centrico tutto quello che non ha base dollaro è un cross valutare un ozionismo giusto per dare qualche informazione in più in questo caso abbiamo l'euro lira turca quindi siamo di fronte a un cross valutare non a un cambio in questo caso è una moneta molto direzionale è un sottostante direzionale trend follower lo potremmo definire quindi lo si cavalca molto bene con una strategia trend follower quindi applicando al grafico un normale indicatore come il super trend piuttosto che la media mobile ecco che si riescono già a ottenere delle informazioni utili tutte le volte che in questo caso abbiamo euro lira turca quindi tutte le volte che i prezzi del nostro cross salgono come in questo caso sopra la linea blu il nostro indicatore in questo caso super trend dobbiamo essere investiti in euro non dobbiamo avere lira turca tutte le volte invece che vedete i prezzi del cross scendono sotto l'indicatore ecco che è il momento di comprare le obbligazioni in lira turca io personalmente consiglio di comprare le obbligazioni più liquide e con scadenza relativamente corta perché in generale hanno una maggiore stabilità di prezzo quindi mi vado assumere il rischio cambio cerchiamo di non correre anche il rischio prezzo quindi compro in una fascia che ritengo essere propizia per la valuta estera l'obbligazione in valuta estera scegliendone una con molta liquidità quindi con molti scambi con un rendimento flusso cedolare soddisfacente una scadenza relativamente corta per avere una maggiore stabilità di prezzo se voglio essere più aggressivo ovviamente scelgo una obbligazione con scadenza lontana cioè sarebbe corretto dire con una duration maggiore ma per chi ne offita se si sta su scadenze brevi è difficile sbagliare e quindi tutte le volte che i pressi scendono in questo caso sotto la nostra linea il nostro indicatore che ripeto qui ho usato il super trend ma posso utilizzare anche una media mobile allora compro obbligazione in valuta estera quando invece i pressi scendono anzi in questo caso scusate contrario salgono sopra l'indicatore vendo l'obbligazione in valuta estera questa strategia dinamica che sul lungo periodo dà dei buoni risultati ovviamente ogni cross valutario va tarato quindi la media mobile no quella che si usa sempre classica 200 periodi no sul grafico giornaliero non è che va bene per tutti i cambi o per tutti i cross valutari a seconda del sottostante bisogna diciamo così aumentare o diminuire il numero di giorni del conteggio però la logica è assolutamente quella oppure possiamo adottare un'altra strategia in questo caso è una strategia statica cosa si fa beh allora la selezione stiamo sempre parlando di obbligazioni in valuta estera in particolare di quelle dei paesi emergenti quindi quelle molto ballerine che cosa faccio vado a selezionare l'emittente abbiamo detto deve essere un investment grade meglio ancora titolo di stato enti sovranazionali perché così sono tassate le 12 e mezzo e sono più solidi la liquidità deve essere sempre elevata e tra tutte quelle che ho identificato di una determinata valuta quindi analizzo prima tutte quelle in rublo poi tutte quelle in real brasiliano poi tutte quelle in lira turca eccetera quindi faccio una selezione omogenea per campioni le seleziono quindi per liquidità per emittenti eccetera e poi cosa vado a fare vado a selezionare a cercare un mix tra scadenza lunga rendimento elevato e cedola elevata una volta che ho trovato nel mazzo delle obbligazioni selezionate il mix ideale dopo vediamo un esempio tra scadenza lunga flusso cedolare importante rendimento elevato compro quell'obbligazione quando incasso la cedola cosa faccio la vado a reinvestire sulla stessa obbligazione alla scadenza che cosa faccio rinnovo l'investimento quindi prendo il denaro che mi è rientrato vado a comprare un'altra obbligazione sempre in quella valuta sempre selezionata con scadenza lunga rendimento elevato flusso cedolare elevato l'ideale sarebbe utilizzare un conto in valuta in modo tale che congelo rischio cambio e quindi questo ciclo continuo che io vado a fare lo faccio all'interno di un conto in valuta la logica qual è provate a immaginare ipotizzo che all'interno di un portafoglio sempre con grado di rischio medio alto io voglia dedicare ad esempio il 5 per cento alle valute estere quindi cosa faccio il 5 per cento del portafoglio quindi una quota generalmente contenuta qualcuno potrebbe arrivare anche al 10 per cento dipende dalla pianificazione personale lo dedico alle valute emergenti immaginiamo un 5 per cento per semplicità prendo quindi il 5 per cento questo 5 per cento lo divido in cinque valute quindi l'un per cento ad esempio in valuta di raturca l'un per cento in rublo l'un per cento in real brasiliano l'un per cento in in zar e l'un per cento in un'altra valuta emergente ognuna di queste di questo un per cento ognuna di queste obbligazioni in valuta la vado a selezionare no con i criteri che abbiamo appena detto una volta che la compro la metto nel portafoglio meglio ancora se portafoglio in valuta incasso la cedola la vado a reinvestire sulla stessa obbligazione o se voglio in un'altra obbligazione ma selezionata con le stesse caratteristiche scadenza lunga rendimento elevato flusso cedolare elevato quando giunge a scadenza rinnovo l'investimento quindi di fatto creo una porzione di portafoglio ridotta un 5 per cento ben diversificato non per cento per ogni valuta emergente che lavora continuamente ad alto flusso cedolare e ad alto rendimento sul lungo periodo in genere questo approccio tende a essere premiante anche se lo sottolineo non abbiamo nessuna garanzia di ottenere neanche sul lungo periodo un rendimento positivo io ho fatto tante simulazioni e nella stragrande maggioranza di casi questo approccio produce un risultato positivo ma non è possibile ovviamente ipotizzare che sia sempre positivo in ogni contesto però è un approccio che si può senz'altro percorrere o valutare questo secondo me è un approccio in realtà più complicato rispetto a prima prima abbiamo visto la strategia dinamica che vi ho detto sì c'è da tibolare un po di più perché devi seguire le quotazioni con una maggiore frequenza ma mi sembra più semplice no devi vedere se i prezzi sono sopra sotto una linea fondamentalmente si usano indicatori di trend in questo caso la gestione statica è molto più semplice perché selezioni una volta poi per anni non devi più far nulla se non reinvestire le cedole però dal mio punto di vista seguire questo approccio in realtà dal punto di vista psicologico potrebbe essere più complicato perché ci sono situazioni in cui alcune valute come ad esempio la lira turca da anni prende degli schiaffi quindi continuare a seguire questa strategia all'interno di un portafoglio non è così semplice è vero che una porzione ridotta però la nostra finanza comportamentale spesso e volentieri ci gioca brutti scherzi questo è un esempio attuale i prezzi sono riferiti a un paio di giorni fa perché queste slide che avevo preparate per la settimana scorsa poi c'è stato quel problema per il numero di accessi alla videoconferenza quindi di conseguenza qualche prezzo che troverete non è aggiornato a oggi ma cambia veramente poco questo dicevo è una selezione fatta con le caratteristiche che abbiamo appena descritto in questa strategia statica no vedete che per ogni vedete che ho preso cinque obbligazioni una vedete in lira turca una in zar una in valuta messicana una in valuta russa e una in valuta brasiliana quindi l'un per cento ognuno cinque per cento di portafoglio complessivo vedete li ho selezionate andando a cercare un mix di scadenza lunga liquidità flusso cedolare elevato e rendimento elevato il mix di questo portafoglio vedete un flusso cedolare mensile del 745 ovviamente in valuta estera e un rendimento medio vedete se il portafoglio è qui pesato del 693 quindi vedete che abbiamo un rendimento elevato un flusso cedolare ancora più elevato una piccola porzione di portafoglio se questa strategia rientra all'interno della pianificazione finanziaria della persona del suo grado di rischio soprattutto è senz'altro una strategia interessante da valutare altrimenti dicevo ci sono le strategie dinamiche che ci portano a individuare quelle che sono le inversioni di tendenza dei prezzi di un cross o di un cambio valutario e sfruttarlo di conseguenza in questo modo vedete un investitore fondamentalmente sarebbe fuori dalla lira turca vedete questo euro lira turca dall'inizio del regno vedete fondamentalmente dal marzo 2020 la persona vedete sarebbe rimasta quasi sempre fuori dall'investimento si sarebbe evitata di prendere tutti questi eh schiaffi che non sono schiaffi banali perché vedete siamo passati da area sei e sessanta ad area nove e trenta quindi fondamentalmente è un signor rialzo per l'euro e sono rischiaffi per chi ha la valuta eh in portafoglio ci sarebbe stata una piccola pausa qui eh dove si sarebbe eh rimasti investiti dove si sarebbe scusate diventati investiti quindi si sarebbero comprato obbligazioni in lira turca ma sarebbe stata vedete una parentesi molto molto eh breve per il resto il grosso della fase ribassista della lira non sarebbe stata eh percepita quindi è un approccio vedete che sul lungo periodo sicuramente aiuta c'è un altro aspetto mentre guardo le vostre domande e bevo un goccio d'acqua che è importante sottolineare tutte quelle obbligazioni che abbiamo visto adesso cioè corporate e eh paesi emergenti noi le possiamo comprare direttamente ma comprare direttamente abbiamo una serie di problematiche la prima è quella che ci esponiamo al rischio specifico quindi che un emittente salti in più comprare dieci venti obbligazioni diverse significa comprare pagare dieci venti trenta eh commissioni diverse quindi anche un costo da questo punto di vista soprattutto se facciamo strategie attive ovviamente più abbiamo obbligazioni in portafoglio e più le gestiamo attivamente anche l'incidenza dei costi aumenta c'è una soluzione per limitare i costi e al tempo stesso per diversificare in modo tale che si elimina sottolineo elimina il rischio default e quale utilizzare gli etf obbligazionari quindi andare a utilizzare un prodotto appunto l'etf che è l'acronimo di exchange edit fund che non è altro che un fondo di investimento quotato in borsa in tempo reale che si caratterizza per avere dei costi di gestione estremamente contenuti e per essere a gestione passiva cioè per replicare passivamente un benchmark tramite gli etf noi eliminiamo il rischio default perché l'etf non può fallire è un prodotto segregato può eventualmente diminuire di prezzo perché si depressa eh no il prezzo delle singole obbligazioni o delle singole azioni che sono contenute all'interno dell'etf ma l'etf se per sé non può fallire ed è un prodotto ampiamente diversificato dal suo interno grande vantaggio in più lo compro con un click del mouse lo compro andando in banca senza nessun tipo di problema in qualsiasi banca e con una sola commissione ho comprato un portafoglio composto da decine di obbligazioni questo è uno strumento molto interessante per andare a lavorare sulle obbligazioni ai field cioè le obbligazioni e di emittenti traballanti o le obbligazioni di paesi emergenti anche loro traballanti quali sono i vantaggi degli etf li ho sintetizzati in questa slide in realtà vi ho già citati quelli principali che servono a noi in questo momento è quello quello che ci interessa in questo momento poi ve la guardate magari meglio da soli a casa c'è quello che non c'è rischio default abbiamo detto l'ampia diversificazione interna e i costi estremamente contenuti anche proprio di gestione rispetto soprattutto ad esempio dei fondi comuni di investimento quindi un prodotto assolutamente interessante per il nostro scopo una volta però che abbiamo deciso di comprare delle obbligazioni tramite un etf bisogna che noi questi etf li selezioniamo perché non sono quotati solo tre o quattro etf per cui la scelta è limitata sono quotati oggi migliaia di etf per cui diventa importante imparare a selezionarli e quindi dobbiamo andare a selezionare che cosa beh innanzitutto l'asset class in questo caso è semplice l'obbligazionario perché ci orientiamo lì più tardi vedremo anche gli etf azionari e in quel caso ovviamente l'asset sottostante sarà l'azionario quindi capire primo l'azionario o obbligazionario lo sottolineo per un motivo molto semplice che spesso e volentieri molti investitori considerano gli etf obbligazionari azionari come se fossero più o meno la stessa cosa in realtà non è assolutamente vero perché essendo diverso il sottostante su cui vai a investire di conseguenza sono diverse anche le caratteristiche del prodotto un etf obbligazionario investe in obbligazioni che sono un prestito che hanno un rendimento che hanno un rateo che salvo default rimborsano a 100 quindi uno strumento con delle peculiarità ben precise etf azionari invece investono in azioni che hanno altre caratteristiche dopo ci torneremo per l'obiettivo entrata periodica ve lo anticipo le etf obbligazionari sono sicuramente da preferire rispetto a quelli azionari primo perché sono meno volatili secondo perché hanno un flusso cedolare più costante non dico costante ma meglio più costante rispetto agli etf azionari perché perché i flussi delle obbligazioni sono scritti da contratto se l'emittente non li rispetta va in default al contrario il dividendo di un'azione non è obbligatorio il dividendo una parte di utili che l'azienda decide di distribuire agli azionisti ma può essere tranquillamente una decisione dell'azienda quella di non distribuire utili pur in presenza di scusate non pagare dividendo pur in presenza di inutile quindi ho guadagnato soldi come azienda ma per quest'anno decido di non distribuirlo agli azionisti perché perché voglio migliorare la mia solità patrimoniale voglio utilizzarlo per fare ricerca innovazione voglio lanciare un opa su un concorrente non posso farne l'uso che voglio posso quindi decidere legittimamente di non distribuirne quote agli azionisti oppure può essere una decisione calata dall'alto provate a pensare alla bce che a marzo ha detto care banche unicredit intesa eccetera eccetera quest'anno non distribuite il dividendo quindi una decisione che viene calata dall'alto quindi con gli etf obbligazionari avete una maggiore costanza di flusso cedolare che è efficiente come soluzione per il l'obiettivo entrata periodica mentre invece con gli etf azionari queste queste situazioni tendono a diminuire c'è meno certezza di flusso meno costanza secondo ovviamente dobbiamo il nostro obiettivo è l'entrata periodica quindi dobbiamo scartare gli etf ad accumulo e privilegiare senza se e senza mai gli etf a distribuzione cioè quelli che distribuiscono cedole periodiche dobbiamo analizzare il dividendo il dividendo vediamo fra un attimo vi faccio vedere un'immagine è il rapporto tra la cedola erogata e il prezzo di mercato questo dividendo il deve essere superiore almeno al 3 per cento dal mio punto di vista meglio ancora se superiore al 4 poi magari qualcuno di voi può avere dei criteri suoi particolari qualcuno potrebbe dire no ma basta che sia superiore al 2 e mezzo qualcun altro può dire no a me basta che sia cioè voglio che sia superiore al 5 per cento ognuno può avere una diversa sensibilità da questo punto di vista e il mio pensiero è che sopra il 3 meglio ancora 4 per cento è sicuramente la soglia ideale poi conviene guardare anche la frequenza con cui questo etf distribuisce la cedola perché ci sono degli etf con la distribuzione mensile altri trimestrale altri semestrali altri annuale ora se noi non abbiamo necessità particolari non c'è nessuna differenza tra avere un etf che distribuisce la cedola ogni mese o una volta all'anno ma se invece abbiamo necessità come l'ossigeno no di arrivare a fine mese allora bisogna privilegiare senza altro gli etf cedola mensile piuttosto che quelli annuali perché quelli annuali dobbiamo aspettare un anno per incassare la cedola quelli mensili e tutti i mesi ci pagano una cedolina quindi a seconda dell'obiettivo finanziario della nostra necessità e quindi di quanto c'è urgente incassare questa entrata periodica dobbiamo possiamo selezionare etf con frequenza maggiore o minore dobbiamo valutare anche l'aspetto valutario obbligazioni in euro etf che investe anche in obbligazioni in valuta estera ma a cambio coperto oppure obbligazioni estere senza nessuna copertura sono tutte scelte che si possono legittimamente fare all'interno di un portafoglio dopo le vediamo liquidità questo è un altro dato molto importante dal mio punto di vista almeno 500 mila euro di controvalore al giorno l'etf li dovrebbe scambiare per essere considerato liquido e quindi degno di nota da essere inserito in portafoglio il controvalore per chi non lo sapesse è dato dalla moltiplicazione tra il prezzo di mercato e il numero di pezzi che vengono scambiati ad esempio scambia 100 pezzi a 10 euro 100 per 10 uguale 1000 1000 euro è il controvalore di questo scambio la somma di tutti gli scambi dal controvalore complessivo del giorno ecco una media di 500 mila euro scambiati al giorno rende le df sufficientemente liquido poi è chiaro che più è alta la liquidità è meglio è 500 diciamo che uno spartitassico per decidere chi è liquido chi non è liquido qualcun altro guarda le dimensioni del etf del patrimonio gestito all'etf dice sopra i 100 milioni di gestito dell'etf lo considero liquido sotto no in realtà io non utilizzo questo criterio utilizzo quello del controvalore però volendo potete utilizzare anche quell'altro criterio ve lo cito per completessa poi abbiamo i costi di gestione questo significa che a parità di altre condizioni quindi di dividend yield di altre condizioni allora privilegiamo ovviamente l'etf che costa meno quindi troviamo due soluzioni alternative uguali come rendimento come rischio come caratteristiche quale delle due scegliamo ovviamente quella che costa meno quindi quella con il ter che il costo di gestione anno inferiore altro aspetto da considerare quello della replica la replica di un etf può essere replica fisica o replica sintetica la replica fisica è più sicura o se vogliamo meno rischioso rispetto alla replica sintetica io personalmente non mi faccio grandi differenze tra replica fisica replica sintetica se devo essere sincero anche perché in realtà c'è una certa tendenza a emettere oggi solo prodotti a replica fisica e non più a replica sintetica molti etf che erano stati emessi replica sintetica li stanno pian pianino convertendo in replica fisica però in ogni caso se qualcuno vuole limitare il rischio senz'altro privilegiare quella replica fisica è meglio quindi mettiamola così a parità di condizioni privilegiare quella replica fisica se siete molto prudenti solo e soltanto replica fisica visto che l'ho citato vediamo che cos'è un attimo il dividend deal no che uno dei criteri che abbiamo appena citato più è alto questo valore meglio è e vedete il rapporto tra il dividendo erogato in questo caso dall'etf e il prezzo di mercato quindi dividendo diviso prezzo è molto semplice come approccio no vedete ci ha fatto anche l'esempio ma immaginate che un etf abbia pagato due cedole in un anno no quindi una cedola del lo 0 3 2,03 e una cedola vedete del 2,16 euro ovviamente è un etf che distribuisce semestralmente quindi etf che due volte all'anno distribuisce la cedola il totale di queste due cedole nel corso di 12 mesi vedete è stato di 4 euro e 20 quindi io che cosa faccio fatto 4 euro e 20 per cento diviso il prezzo dell'etf in questo caso cos'è 84 17 mi da vedete un dividend di 4 99 quindi il mio flusso quella che veniva chiamata nei borsini la rendita immediata è un 4 99 no mi dice quanto è il rapporto tra il dividendo erogato e il prezzo attenzione un dato due dati primo analizzare i dividendi è molto semplice per valore numerico più alto è meglio è perché vuol dire che è maggiore il dividendo erogato in funzione del prezzo quindi primo aspetto è semplice più alto meglio è secondo attenzione però perché stiamo confrontando tra loro due dati dividendo e prezzo che sono entrambe due variabili il dividendo può cambiare perché cambia il paniere sottostante dell'etf e il prezzo può cambiare perché ovviamente è un prodotto quotato in tempo reale quindi in base all'incontro domanda offerta giorno dopo giorno anzi in realtà minuto dopo minuto tende a cambiare quindi è un dato quello del dividendo il descritto diciamo così nella sabbia però attenzione perché comunque è un criterio di selezione da controllare vi renderete conto strada facendo controllando periodicamente dividendo il che realtà ci sono degli asset come l'obbligazionario e il obbligazionario paesi emergenti che per quanto abbia dividendo ballerini cioè che tendono a muoversi perché sono variabili come abbiamo detto adesso tendono comunque a essere sensibilmente più alti rispetto a quello che è la media non so dell'obbligazionario titoli di stato corporate con un rating investment grade questo è una schermata con vedete tante obbligazioni vedete questo è un file excel no con primo asset vedete sono tutte obbligazioni secondo asset vi dice esattamente qual è il sottostante cos'è un globale investe negli stati uniti investe in europa quindi vi specifica l'area geografica poi c'è la terza colonna che dice se un titolo di stato oppure un'obbligazione corporate quindi ammessa da un soggetto privato poi dice la valuta se in dollari se in euro o a cambio coperto quindi fizz poi vedete c'è l'eis in poi c'è il nome del prodotto vedete che abbiamo il dividend yield abbiamo il rapporto tra cedola e prezzo e poi abbiamo vedete il valore degli scambi in questo caso non ho messo il controvalore giornaliero ho messo quanto hanno scambiato in milioni di euro da gennaio a luglio agosto non mi ricordo vedete che il tf sono tantissimi sono diversi vedete come sottostante come valuta come dividend yield e come scambi se noi volessimo andarli a selezionare qui la selezione ve l'ho già fatta io per esigenze di sintesi questa sera abbiamo tanti argomenti a trattare quindi non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli di come mai ho selezionato queste non lo specifico eccetera ognuno di voi ovviamente dalla selezione di prima che in realtà quella di prima questa non è la selezione questa è la fotografia e lo stato dell'arte e dei principali tf ordinati per dividend yield eh da come mai sono arrivato a questa questa tutti i dettagli non li vediamo stasera però in linea generale sono questi dettagli che abbiamo descritto qui quindi ho selezionato in ordine vedete di dividend yield poi ho scartato tutti i dividend yield che non sono soddisfacenti poi ho scartato tutti eh i eh gli etf che non scambiano almeno un controvalore di 500 mila euro sono andato a verificare i costi e le condizioni di quelli che erano abbastanza simili e di conseguenza ho trovato vedete questa selezione questa è una selezione di etf che secondo me possono essere interessanti da utilizzare in questo momento per avere entrate periodiche che siano pingui e eh al tempo stesso eliminando il rischio default permettendoci quindi di investire che cosa in vedete titoli di stato di paese emergenti sia a cambio aperto che a cambio coperto in obbligazioni corpore quindi high yield globali sia in dollari in realtà non è globale chiudo venia questi qua sono americani non so perché ho scritto globale questi sono high yield americani entrambi uno a cambio aperto una cambio coperto e poi obbligazioni qui ho scritto convertibile sarebbero i coco bond eh sia eh area euro che globale quindi eh eggiato coperto dal cambio questi sono sei selezioni sei etf selezionati che secondo me sono tutti interessanti a questo scopo li vediamo molto molto eh velocemente questo è un etf vedete che è emesso da i shares che è replica un paniere jp morgan in vedete in bond obbligazioni emessi da emerging markets quindi da paesi emergenti in valuta nel dollaro quindi qui vedete trovate tutte le il codice ISIN trovate che vedete sottostante sono titoli stati indiparati di paesi emergenti in dollaro la replica è fisica il sottostante in dollari quindi di conseguenza questo etf subisce l'influenza del cambio quindi voi lo comprate lo vendete in euro ma in realtà il sottostante è denominato in dollari non c'è nessuna copertura distribuisce su base mensile una cedola e il dividend yield annuale è del 4 e 41 il costo annuale il ter è dello 0 45 se vedete questa è la volatilità prendiamo quella un anno vedete nell'ultimo anno ci sono oscillazioni di prezzo del 14,43 per cento quindi questo è un asset ballerino come saranno tutti ballerini gli etf vedete inseriti in questa classifica e qualcosa di questa selezione questi sono tutti asset ballerini hanno dei prezzi questi etf che subiranno oscillazioni anche ampie di prezzo questo è il primo dicevamo questo è il secondo questo è il fratello del primo perché vedete sempre di ice share si investe sempre in un paese di in un scusatemi in un indice sempre gp morgan sempre di bond sempre paesi emergenti emerging market sempre in dollari ma kids cioè con copertura del cambio quindi è il fratello di quello di prima diciamo così con copertura del cambio la distribuzione sempre mensile il dividend yield è del 4 e 12 e la volatilità è stata del 13,64 per cento quest'anno quindi anche qui vedete un asset nonostante la copertura del cambio senz'altro ballerino poi abbiamo un altro etf molto interessante secondo me nel portafoglio di molti investitori è l'iShares che investe in obbligazioni ai yield americane in dollari quindi non lo compriamo sempre in euro ma in realtà il sottostante è in dollari questo è uno stato uno dei primi etf obbligazioni aria i yield a essere quotato sul mercato italiano anche una certa storicità come quotazioni è una distribuzione semestrale a un dividend yield interessante vedete un 5 e 72 per cento per un terzo un costo anno di gestione dello 0 5 e anche qui vedete un 13 85 di volatilità questo è un altro interessante come interessante quest'altro di pinco l'emittente in questo caso è pinco la sgr che lo gestisce è un obbligazionario ai field che si caratterizza per investire in obbligazioni ai yield americane short term cioè con una duration compresa tra 0 e 5 anni e per essere hit cioè con copertura del cambio qui trovate vedete il codice is in questo è a distribuzione mensile delle cedole a un dividend yield vedete del 5 per cento e una volatilità del 9 90 facciamo del 10 per cento annua a un anno poi abbiamo questo etf eggiato quindi che investe in obbligazioni cocobond i cocobond per chi non lo sapesse sono le nuove obbligazioni subordinate espresse in dollari ma in questo caso con copertura del cambio anche qui abbiamo la distribuzione eh su base trimestrale della cedola vedete un dividend yield del 5 38 per cento e una volatilità alta vedete del 19 21 perché una volatilità alta beh perché sono obbligazioni subordinate quindi c'è anche una correlazione se vogliamo con il mercato azionare quindi di conseguenza la volatilità è alta e come alta vedete anche la volatilità di questo secondo strumento questo caso l'emittente è wisdom 3 ma il sottostante fondamentalmente sono sempre vedete i cocobond quindi le nuove obbligazioni eh subordinate anche qui abbiamo una distribuzione su base in questo caso semestrale con un 5 85 di dividend yield anche qui vedete volatilità molto alta del 18 94 per cento quindi vedete che sono tutti asset quelli che abbiamo visto adesso volatili quindi rispetto al passato dove un investitore comprava un immobile lo teneva lì 30 anni da affittare comprava titoli di stato li teneva anche quelli 30 anni finché non giungeva una scadenza e e si dormiva soli tranquilli anche perché non si guardavano le quotazioni oggi invece occorre andare a nuotare nell'acqua più alta nell'acqua più alta ci sono però le correnti ci sono gli squali quindi ci sono sicuramente dei pericoli in più oggi gli investitori volenti o nolenti se vogliono andare a caccia di rendimento soprattutto in questo caso di entrate periodiche devono nuotare a spingersi in acque dove prima non andavano a nuotare quindi quegli etf che ho appena descritto per quale investitore vanno bene qual è l'identikit beh ovviamente deve avere come obiettivo finanziario l'entrata periodica in più deve avere un'ottica temporale di medio lungo periodo indicativamente sintetizzate in 8 10 anni quindi entro nell'ottica questi prodotti ritengo il portafoglio x anni se io ho necessità di denaro fra un anno e mezzo perché mi devo sposare ecco comprare obbligazioni di paese emergenti o ai yield anche tramite etf non è certo la soluzione più indicata quindi l'ottica temporale di medio lungo periodo io faccio sempre l'esempio l'ho citato anche l'anno scorso lo cito periodicamente io un paio d'anni fa ho fatto un paio di offerte per due appartamenti il prezzo non è stato ritenuto soddisfacente da parte del venditore quindi di fatto mi sono trovato con della liquidità che avevo sul conto corrente che volevo destinare a quegli immobili ma non mi sono stati venduti quindi di conseguenza che cosa ho fatto ho detto beh io mi compro degli etf ho comprato degli etf anche tra quelli che vi ho descritto prima con quel denaro e questi etf mi generano entrate mensili trimestrali semestrali eccetera hanno delle oscillazioni di prezzo ma li ho considerati una valida alternativa all'investimento immobiliare investimenti immobiliare io avrei potuto comprare una zona ben specifica per una serie di motivi ed ero convinto che il prezzo sarebbe salito in effetti se fosse riuscito a comprare in quella zona i prezzi sono saliti ma al di là di quello il concetto è che questi etf mi permettono di essere dicevo una valida alternativa all'immobiliare no senza avere le rotture di scatole dell'immobiliare l'immobiliare ai tutti no l'incertezza del depreciamento dei prezzi l'affittuario mi pagano l'affitto e le assemblee condominali le ristrutturazioni se viene il terremoto c'è tutta una serie di criticità particolari questi etf uno li compra in portafoglio li tiene 30 anni ti pagano la tua cedola periodica li vuoi incrementare con un clic ne compri degli altri vuoi ridurre le quote li vuoi vendere tutti con un clic fai questa operazione non hai l'amministratore di condominio non hai i rapporti con gli inquilini tutti i mesi sei sicuro che incassi la cedola hai una serie di vantaggi incredibili però vanno gestiti con l'ottica di medio lungo periodo come se fossero un immobile da dare in affitto no il grado di rischio avete visto le oscillazioni sono elevate quindi di conseguenza deve essere un grado di rischio medio alto da parte del risparmiatore poi abbiamo il discorso degli etf e scusatemi il discorso delle strategie che strategie posso utilizzare beh sicuramente una strategia molto interessante è quella di piano d'accumulo quindi compro una determinata quantità di denaro tutti i mesi ad esempio classico è i 200 euro tutti i mesi no 200 euro di un etf 200 euro di un'altra eccetera eccetera questa strategia ha un vantaggio mi permette di entrare frazionato quindi se il sottostante diminuisce di prezzo è meglio perché io ne compro una quantità maggiore con la stessa quantità di denaro sul lungo periodo quando le quotazioni si saranno riprese io non avrò incassato solo le cedole ma avrò anche guadagnato sulla rivalutazione del capitale senz'altro per ridurre il rischio il piano d'accumulo e la struzione efficiente però attenzione stiamo parlando di entrate periodiche per cui andare a costruire un piano d'accumulo no 200 euro al mese su un portafoglio d'entrata periodica è chiaro che è sacrificato perché perché se io immaginate che abbia appena iniziato il piano ho fatto un anno di versamenti ho versato in tutto 6.000 euro è chiaro se incasso cedole per un 5 per cento ma su 6.000 euro ho incassato poco denaro quindi da un punto di vista operativo è vero che il piano d'accumulo è una soluzione efficiente per ridurre il rischio e per volgere a mio vantaggio quelli che sono le fasi ribassiste le debolezze del sottostante ma per raggiungere l'obiettivo entrata periodica non è l'ideale più interessante invece magari l'approccio peak peak significa investo tutto il capitale in un'unica soluzione oppure se il capitale è importante posso fare un mix cioè metà ad esempio comunque una porzione di capitale ad esempio non so 150 mila euro li investo subito in etf con le caratteristiche abbiamo visto prima e poi ad esempio gli altri 100 mila euro che ho a disposizione li vado a investire sempre negli stessi etf ma attraverso un piano d'accumulo quindi in questo caso utilizzo una soluzione ibrida metà posizione la compongo immediatamente in modo tale che già comincia a maturarmi una certa quantità di denaro in entrata e l'altra soluzione invece la seconda parte scusate la gestizio con un piano d'accumulo così vado a diminuire il rischio oppure posso utilizzare delle strategie attive con le dette strategie trend follower un po' quello che abbiamo visto prima con le obbligazioni valuta estera no vado a comprare vendere questi etf in funzione di quello che è la tendenza di mercato quando i prezzi sono impostati a rialzo compro quegli etf quando la tendenza dei prezzi è a ribasso li vendo e quindi li lascio fuori del portafoglio questa strategia ha sicuramente un pregio che è quella di farci evitare di mantenere in portafoglio un asset diciamo così sfacciatamente impostato a ribasso però ha un difetto non piccolo nei mesi in cui non siamo investiti che possono essere mesi a volte anni su quell'asset è chiaro che noi non percepiamo entrate e se l'entrata è il nostro obiettivo ecco che qualche criticità potrebbe esserci quindi attenzione le strategie trend follower ti riducono effettivamente il rischio ma non sei investito sempre quindi di conseguenza non sempre non tutti i mesi percepisci la cedola se è proprio indispensabile per arrivare a fine mese col mare il gap pensionistico oppure per ammanzare proprio per arrivare fisicamente a fine mese ecco che sicuramente non è una soluzione interessante l'approccio vedete sarebbe questo no si potono utilizzare anche dei grafici settimanali dei grafici mensili a secondo di quelli che sono vedete i contesti di mercato come ad esempio quando i prezzi salgono sopra la media in questo caso usato la media mobile si compra si mantiene in portafoglio finché i prezzi sono sopra la media quando vedete i prezzi scendono sotto la media si vende vedete i grossi trend sono stati tutti catturati vedete questo trend è stato catturato quest'altro trend è stato catturato quest'altro è stato catturato e nel mentre in questi lassi di tempi si è incassato anche le cellule ovviamente qui queste marzo si prende uno schiaffo ma sono gli incerti del mestiere non sono i rischi e questo purtroppo non c'è niente da fare lì fondamentalmente ti rimangiavi parte del guadagno maturato nei mesi precedenti ma purtroppo il bello il brutto secondo dei punti di vista dei mercati finanziari un'altra soluzione che si potrebbe utilizzare come alternativa all'obbligazionario è quella dei certificati a capitale protetto che cosa sono i certificati a capitale protetto sono dei certificati che a scadenza sono protetti cioè vuol dire che prevedono una quantità di denaro minimo di rimborso indipendentemente dall'andamento del sottostante quindi se io compro un certificato a capitale protetto che so con sottostante il titolo ENI per dire se ENI dovesse fallire tecnicamente non è un problema perché il certificato è a capitale protetto quindi basta che non fallisca l'emittente del certificato che io sono tranquillo i prodotti a capitale protetto hanno vari livelli di protezione protezione del 100% quindi ti restituisco il 100% del valore nominale se il certificato è stato emesso a 100 ti rimborso 100 nello scenario peggiore se la protezione è del 90% a scadenza ti rimborso appunto il 90% del valore nominale quindi 90% di 100 quindi ti rimborso 90 monetine invece di 100 oggi la scelta a livello di capitale protetto è estremamente avara perché avara beh perché sono pochi certificati interessanti in questo momento quei pochi quotati da tempo sono tutti in bidonli quindi l'emittente il market maker non ha più pezzi da vendere fondamentalmente e quindi di fatto è impossibile acquistare il prodotto e oppure hanno tutti dei prezzi particolarmente elevati che quindi non conviene assolutamente comprarli oppure altri magari sarebbero interessanti ma non per soddisfare l'obiettivo entrata periodica perché magari sono certificati sulla carta interessanti per altri motivi ma che hanno il sottostante lontano dalla soglia cedola quindi difficilmente pagheranno cedole visto che l'obiettivo di questa sera è l'erogazione di una cedola ecco che sono tutti certificati non interessanti per quello scopo quindi se togliamo i certificati in bidonli togliamo i certificati a prezzi troppo alti togliamo i certificati non efficienti per l'obiettivo entrata cedola in questo momento storico in cui sto svolgendo la conferenza rimane veramente veramente poco un certificato che vi segnalo curioso a capitale protetto è questo che vedete in sfondo è un certificato emesso da si chiama la società vedete è scritto smart etf la società e sirdan e capital che è una società finanziaria che è nata pochi anni fa e che per quanto mi risulta non ha rating questo in realtà è il principale difetto di questo certificato cioè l'affidabilità no dell'emittente oggi la solità per quello che è possibile conoscere è ok però trattandosi una società di piccole dimensioni e eh di recente nascita di recente costruzione perché è nata nel duemila e quattordici se non mi sbaglio quindi relativamente pochi anni fa ecco che è un emittente da monitorare no da eh su cui stare drizzati con le antenne però sicuramente il prodotto quindi il tallone d'Achille è la solità dell'emittente se vogliamo che è un'emittente poco conosciuta è nata da poco però se togliamo questo aspetto che non è certo secondario eh questa è una è un prodotto sicuramente interessante è un prodotto quotato sul mercato regolamentato quotato sul certix ehm dell'euro 3x che oggi di fatto è di borsa italiana scade nel duemila e venticinque quindi è una scadenza medio lunga ma in genere accettabile per molti portafogli come ottica temporale e ha una protezione del cento per cento del valore nominale vuol dire che essendo stato emesso a mille il rimborso nello scenario peggiore cioè in caso di ribasso del sottostante rimborsa a mille in questo caso il sottostante che cos'è è l'indice euro stocks selected dividend 30 eh ha una caratteristica questo certificato anzi ne ha due la prima caratteristica è quella che eroga ogni anno quindi con frequenza annuale una cedola incondizionata dell'uno e mezzo per cento cedola incondizionata vuol dire che viene pagata indipendentemente dall'andamento del sottostante quindi che il sottostante salga che il sottostante scenda questa cedola viene pagata attenzione il fatto che sia un certificato a capitale protetto e che la cedola sia incondizionata fa sì che queste cedole non costituiscano reddito diverso come è la prassi nei certificati ma costituiscono e questa è l'eccezione reddito di capitale e quindi queste cedole dell'uno e mezzo per cento non sono utilizzabili per recuperare eventuali minusvalenze per cresse e questa diciamo è la secondo aspetto critico di questo certificato è una sottigliezza rispetto a quello di prima però sicuramente se un investitore cerca non solo l'entrata periodica ma anche e diciamo così eh l'efficienza fiscale derivante dalla recupero minus ecco che in questo caso non la trova non solo però oltre alla cedola annuale incondizionata no del dell'uno e mezzo per cento a scadenza questo certificato che cosa fa paga anche il cinquanta per cento della performance ovviamente se positiva del sottostante con un massimo del venti per cento e quindi ti faccio un esempio no se a scadenza l'indice sottostante quindi l'indice euro stocks è aumentato ad esempio non so del del dieci per cento ecco che questo certificato non solo ti rimborsa mille e nel mente ti ha pagato tutte le cedole da un e mezzo ma ti paga anche il cinquanta per cento della performance entro un massimo del venti per cento cosa vuol dire vuol dire che la performance è stata del dieci per cento abbiamo detto lui te ne paga il cinquanta per cento quindi cinquanta per cento del dieci è il cinque per cento quindi a scadenza ti restituisce mille in più ti paga il cinque per cento di quei mille come bonus finale diciamo così ovviamente se sottostante abbiamo detto è salito di prezzo altrimenti ti rimborsa mille in più hai preso tutte le altre cedole quindi se paga solo le cedole senza bonus finale e rimborsa mille l'investitore si mette in tasca all'una e mezzo per cento da qui a scadenza quindi un totale di sette euro e mezzo sette monetine e mezzo se invece a scadenza abbiamo detto sottostante sale del dieci il rimborso complessivo sarà sette e mezzo monetine dal flusso cedolare cinque monetine per il bonus in totale quindi un dodici e monetine e mezzo no come guadagno complessivo questo giusto per farvi un esempio quindi è un certificato senz'altro interessante resta l'incognita fondamentalmente della solidità dell'emittente che è da controllare ad oggi la giudicherei un emittente solvibile ovviamente è una piccola società appena nata va monitorata con attenzione però questo è un certificato sicuramente interessante in questo momento un attimo che bevo un altro aspetto importante è quello del mercato azionario anche questo in effetti è un asset che potrebbe essere interessante per andare a diciamo così fornire delle entrate periodiche cosa possiamo fare beh possiamo comprare direttamente le azioni possiamo comprarle tramite etf o tramite fondi comuni se le compriamo tramite scusate le compriamo direttamente le siamo esposti al rischio specifico quindi al rischio che quella azione fallisca se invece le compriamo tramite un etf un fondo di investimento il rischio specifico lo eliminiamo perché sono prodotti ampiamente diversificati che non possono fallire quindi c'è una diversa diverso grado di rischio in questi approcci le strategie che possiamo applicare sono tantissime perché per quanto riguarda le azioni comprate singolarmente possiamo applicare strategie di brevi periodi in ottica di trading quindi possiamo comprare vendere in base alle mutate condizioni di mercato oppure possiamo fare i cassettisti e quindi andare a lavorare in ottica investing poi abbiamo detto che abbiamo etf e fondi come alternativa per eliminare il rischio default e qui possiamo fare veramente tante cose perché possiamo utilizzare un approccio basato sui piani di accumulo un approccio di trading anche questo quindi comprare vendere seconda delle condizioni oppure possiamo fare un approccio di medio lungo periodo ho scritto vedete reinvestire i dividendi perché un aspetto che prima non ho citato che adesso ne approfitto per citarlo è il seguente spesso e volentieri ci sono persone che hanno come obiettivo finanziario capita anche a me di avere delle entrate periodiche no io ho il famoso portafoglio che cito sempre quello che ho creato per primo quando avevo 18 anni e che continuo tuttora a curare a portare avanti è un obiettivo con un portafoglio con l'obiettivo entrata periodica no è l'obiettivo che mi dice che se domani mattina mi succede qualcosa non posso lavorare ho comunque delle entrate che mi permettono di arrivare a fine mese di dare da mangiare a mio figlio far fare alla famiglia la vita normale anche se sono impossibilitato a lavorare ora dicevo in quel portafoglio a me capita di avere delle entrate periodiche che quasi mai mi servono in realtà da utilizzare sui mercati è più una tranquillità mentale in molti casi e utilizzo magari quando sono in vacanza o cose di questo tipo però di base è un'entrata che potrei anche ridurre volendo idealmente cosa faccio quando percepisco le vado comunque a reinvestire ecco il concetto è questo fondamentalmente è vero l'obiettivo entrata periodica ma se a fine mese dopo che voi avete ottenuto l'entrata periodica non l'avete utilizzata tutta per le vostre spese beh andatela a reinvestire rendete più efficiente l'investimento sul lungo periodo migliorano le performance complessive del portafoglio quando dobbiamo lavorare con le azioni in ottica di entrata periodica dobbiamo darci dei criteri di selezione anche in questo caso allora cosa dobbiamo guardare? beh dobbiamo guardare la politica dei dividendi che fa l'azienda non tutte le aziende fanno politiche uguali ci sono aziende che storicamente distribuiscono dividendi pingui generosi altre aziende magari non distribuiscono utili è stata molto famosa nel corso degli anni Apple per non distribuire dividendi poi negli ultimi anni è leggermente cambiato ma per tanti anni Apple non ha mai distribuito un dividendo pur macinando utili su utili altre aziende invece prendete Eni l'azienda storica italiana per dividendi lì ha sempre tranne quest'anno in difficoltà erogato dividendi generosi quindi prima caratteristica da guardare è qual è la politica dei dividendi è un'azienda che paga o non paga i dividendi? li paga con costanza tutti gli anni o per scelta o perché va bene? i dividendi che paga sono stabili e sono generosi? ecco noi dobbiamo cercare ovviamente un'azienda che tutti gli anni paga dividendi e che paga dividendi stabili e di discreto ammontare poi dobbiamo guardare ovviamente il dividend deal quindi il rapporto tra il dividendo e il prezzo di mercato dobbiamo valutare ovviamente la solidità aziendale dal momento che stiamo comprando la singola azione in questo caso dobbiamo senz'altro verificare che sia solvibile dobbiamo verificare la valuta se lavoro su piazza affari e su titoli italiani la valuta ovviamente è l'euro se lavoro ad esempio a Wall Street è il dollaro quindi devo decidere poi se andare a coprirmi dal rischio cambio o meno ovviamente coprirsi dal rischio cambio ha dei costi quindi di fatto ti riduce il rendimento eccetera in più attenzione perché se comprate titoli italiani non avete problemi dal punto di vista fiscale ma se comprate titoli ad esempio americani ad esempio a Wall Street avete il problema della doppia tassazione sui dividendi esteri quindi comprate un'azione americana questa in realtà vi fa pagare due volte il dividendo il 15% in America lo vediamo dopo e il 26% in Italia quindi di fatto il dividendo si riduce moltissimo poi qualcuno giustamente sottolinea che in realtà gli accordi internazionali vietano la doppia imposizione su uno stesso oggetto il che è vero ci sono infatti delle procedure burocratiche per chiedere il rimborso di quanto diciamo così indebitamente pagato quindi per fare in modo che paghi un solo dividendo e una sola tassa, una sola imposta e non due il problema è che queste procedure sono abbastanza farraginose sono abbastanza complicate costose eccetera eccetera e quindi di conseguenza se l'investitore deve incassare migliaia di euro di dividendi allora può avere senso effettivamente implementare questa strada prendere questa strada burocratica per ottenere rimborso ma se invece deve portare a casa poche decine di euro ecco sono forse più i costi tra raccomandata, cazzi e mazzi che altro e quindi probabilmente non conviene farlo però è necessario sapere che ci sono le doppie imposte sui dividendi estri questo ve lo sottolineo perché perché spesso e volentieri su internet ci sono degli imbonitori o comunque delle persone che magari sono in buona fede ma in realtà non operano davvero sui mercati finanziari che cosa fanno? che vi sbandierano dei dividendi particolarmente generosi di aziende americane dopo ne vediamo ve le faccio vedere anch'io però attenzione quelli sono dividendi lordi se voi considerate i costi e la doppia imposizione fiscale quel dividendo diventa molto meno sexy rispetto a quello che non appare quindi attenzione questo è importante anche in ottica di comprendere diciamo l'interlocutore che abbiamo di fronte la sua diciamo così preparazione oppure correttezza nel illustrare tutte le caratteristiche di un prodotto partendo da azioni singole partiamo dal mercato italiano nel mercato italiano in questo momento tac questa è la fotografia fatta da solo 24 ore presenta queste azioni come potenzialmente fornitrici di un dividend yield superiore al 5% qui ho fatto proprio una scrematura tutto ciò che è sopra il 5% lo tengo quello che è sotto lo scarto perché ho preso il 5%? ho preso il 5% perché volevo un minimo di premio a rischio visto che stiamo lavorando su singole azioni a rischio default e molto volatili come oscillazioni di prezzo questo è il primo aspetto secondo aspetto l'ho già citato prima tra le righe però lo ripeto ci sono alcuni investitori che sono amanti del compro l'azione perché mi paga un dividendo e quindi tengo in portafoglio le azioni tanti tanti anni si può essere una strategia ma la dovete utilizzare in modo dinamico secondo me non statico cioè il cassettista oggi con i mercati che ci sono oggi con le dinamiche economiche che ci sono oggi è estremamente rischioso vediamo il caso di Eni Eni è stata un'azienda che per tanti tanti anni ha dato soddisfazione agli azionisti perché nei primi anni di quotazione è sempre salita poi dopo un ribasso che c'è stato negli anni fondamentalmente 2008-2009 vedete che le quotazioni si erano assestate in un movimento laterale molto molto ampio quindi molti investitori le mantenevano in portafoglio e incassavano effettivamente lauti dividendi anno dopo anno oppure alcuni investitori magari un po' più smart e un po' più evoluti li comprava su debolezza incassavano il dividendo e rivendevano poi a prezzi più alti ed è stato un titolo morale della favola che per tanti anni ha dato grosse soddisfazioni agli investitori italiani poi cosa è successo? è successo che quest'anno complice le tensioni sul prezzo del petrolio complice il covid il lockdown e la recessione quindi l'utilizzo più ridotto del petrolio il risultato è stato che il titolo si è dimezzato praticamente di un 50% a inizio anno Eni quotava 14 euro adesso siamo a cavallo di 7 poco meno quindi si è depreciata di un 50% in neanche un anno e ha fatto venire meno tutte quelle che erano le certezze del titolo è venuta meno la certezza della stabilità del prezzo sotto i 10 non scende è scesa a 6 e mezzo 7 è venuto meno anche l'ammontare del dividendo dal momento che non era più sostenibile la società l'ha rivisto quindi da un punto di vista operativo lavorare sulle singole azioni per andare a caccia di dividendo è molto più rischioso rispetto all'assetto obbligazionario c'è meno certezza dei dividendi erogati e c'è meno stabilità nelle performance quindi da un punto di vista operativo io personalmente quando devo andare a soddisfare l'obiettivo entrata periodica preferisco lavorare su strumenti obbligazionari piuttosto che su strumenti azionari che non vuol dire gli strumenti azionari per avere entrate periodiche non vanno bene ma vanno utilizzati secondo me oggi in una gestione dinamica attiva di portafoglio più che in una gestione statica siamo di fronte a cambiamenti probabilmente epocali per quanto riguarda l'economia e di conseguenza i titoli azionari oggi io sono convinto che due settori quello delle banche e quello degli energetici classici petroliferi nei prossimi anni sarà destinato a essere debole a sottoperformare mentre ci saranno altri asset come penso il tecnologico penso tutto quello che è collegato all'e-commerce alla robotica alla domotica tutto quello che è collegato alle energie rinnovabili al green invece tenderanno a sovraperformare i mercati questi sono aspetti importanti da considerare perché sono aspetti che riguardano l'economia reale la vita nostra di tutti i giorni che di conseguenza avranno delle conseguenze anche sui mercati finanziari quindi nulla è per sempre a livello di singole aziende di conseguenza questo bisogna sempre tenerlo in considerazione quindi le azioni italiane vedete non sono tantissime quelle che danno un rendimento superiore al 5 tra i big troviamo fondamentalmente solo Fiat troviamo Aldrimut e troviamo Snam Snam è forse la principale di queste aziende per stabilità di business per solidità aziendale e erogazione dei dividendi molte altre vedete sono small cap in alcuni casi sono anche molto piccole come aziende quindi di conseguenza sono molto ballerine nei prezzi sono molto ballerine magari anche nella capacità dell'azienda di generare utili quindi di conseguenza vanno prese assolutamente con le pinze questo è un elenco che io ho voluto mettervi non è un consiglio di acquisto quindi non è che qualsiasi di queste aziende io la comprirei per avere l'entrata periodica eccetera molto più interessanti secondo me sono le azioni americane le azioni americane le possiamo valutare da due punti di vista possiamo implementare strategie che puntano a selezionare le aziende che non hanno un dividendo alto in termini di dividend yield ma che hanno un dividendo che ha la caratteristica di crescere anno dopo anno da vent'anni a questa parte quindi aziende che da vent'anni e passa producono utili che staccano un dividendo un dividendo che è crescente anno dopo anno oppure possiamo adottare delle strategie invece che vanno a caccia dei dividend yield elevati quindi di quelle aziende che tra distribuzione e prezzo di mercato offrono un dividend yield elevato sono due approcci ovviamente diversi io se devo essere molto sincero l'approccio che preferisco è quello basato sul dividendo stabile e crescente nel corso del tempo questa è una immagine riprende tante aziende americane e la linea che vedete colorata per ognuna delle aziende rappresenta l'evoluzione vedete degli anni novanta non da ieri ma storica di trent'anni di economia reale e di mercati dell'andamento del dividendo vedete che sono dividendi storicamente crescenti anno dopo anno questa azienda paga sempre un pochino di più ecco chi va a caccia di dividendi secondo me dovrebbe andare a cercare soluzioni di questo tipo che sono molto più presenti sul mercato americano dove c'è una certa storicità di distribuzione dei dividendi rispetto al panorama italiano queste sono alcune aziende qui ne trovate delle altre vedete che sono tutte linee stabili e crescenti qui c'è un'altra ancora vedete che c'è una lunga infornata vedete di titoli se io voglio evitare di comprare le singole azioni onde evitare il rischio specifico che cosa posso fare? beh posso comprare gli etf azionari sono un portafoglio ampiamente diversificato elimino il rischio default mi devo orientare ovviamente su etf a distribuzione mi devo orientare su etf che distribuiscono dividendi generosi quindi che cosa posso trovare? beh innanzitutto posso trovare gli aristocrats cosa sono gli aristocrats? beh sono etf che investono più o meno nelle aziende che abbiamo appena visto queste aziende che vi ho fatto vedere qui adesso con dividendo crescente da tanti anni a questa parte non sono altro che aziende chiamate in gergo tecnico aristocrats cioè sono aziende di società ci sono società che da vent'anni consecutivi pagano dividendi crescenti quindi non solo aziende che da vent'anni a questa parte hanno utili e che distribuiscono utili ma che distribuiscono sono anche dividendi stabili anno dopo anno crescenti nel loro importo io qui ho detto vent'anni ma in realtà nell'elenco c'è un'azienda che hanno anche 35 anni 38 anni di dividendo pagato regolarmente crescente anno dopo anno ecco queste secondo me sono aziende molto interessanti le possiamo comprare invece di andare a cercare noi con l'anternino tramite un etf qui in realtà voi ne ho selezionato più di uno c'è il primo che investe negli aristocrats americani quindi solo relativi al mercato americano poi c'è un altro vedete il secondo in pratica sempre azioni americane ma huge cioè con copertura del cambio poi c'è il terzo che investe invece in Europa in aziende europee sempre con lo stesso criterio di selezione quindi sempre aziende che da tanti anni a questa parte hanno utili dividendi e dividendi in crescita ve lo anticipo sui mercati europei peggio ancora in Italia non ci sono aziende simili a quelle americane perché perché in America dicevamo c'è una storicità di politica del dividendo in Europa molto meno e quindi c'è molta meno scelta da questo punto di vista ci sono molte meno aziende che hanno 35 anni ad esempio di utili consecutivi distribuiti dividendo crescente eccetera in più l'ultimo è un azionario globale quindi che investe in paesi sviluppati e paesi emergenti di tutto il mondo sempre con azioni selezionate col criterio degli aristocrats vedete che abbiamo dei dividendi dei dividend yield molto curiosi perché vedete che il dividendo americano è un 251 non è altissimo come dividend yield però anno dopo anno queste aziende crescono ha una grossa stabilità quindi non ti pagano tantissimo ma pagano in modo stabile quello globale vedete ha un dividend yield senza altro molto più alto perché è un 4,40% va sottolineato però che tutti questi 4 etf non sono purtroppo molto liquidi molto scambiati quindi un difetto che hanno questi asset è quello allora il vantaggio è quello che sicuramente è un asset interessante l'avrete capito perché investe su politiche robuste ma la criticità è che non tutti sono particolarmente liquidi particolarmente scambiati il mio preferito tra tutti è il primo che non ha il dividendo yield maggiore ma è quello su cui la strategia degli aristocrats nel corso degli anni ha dato risultati maggiori dove c'è più selezione questo è il grafico che fondamentalmente effettua il confronto di tutti questi etf che abbiamo appena descritto altro etf che si può valutare è quello che investe nelle preferred shares che cosa sono? sono le azioni preferite sono una tipologia di azione che esiste sul mercato americano ma che non esiste sul mercato italiano quindi generalmente gli investitori italiani non la conoscono perché qua da noi non c'è sono azioni dicevo americane quotate su mercati americani che cosa fanno? pagano un dividendo fisso se fosse un'obbligazione fondamentalmente e generalmente questo dividendo è anche particolarmente pingue e anche particolarmente generoso non a caso queste obbligazioni sono spesso considerate un ibrido tra un'azione e un'obbligazione c'è chi a volte parlandone dice che sono delle obbligazioni perpetue quasi effetti qualche giuridicamente sono due cose diverse in realtà ma c'è in effetti qualche attinenza da questo punto di vista quindi sono azioni che tutti gli anni pagano un dividendo fisso che in genere un dividendo anche abbastanza elevato attenzione perché essendo quotate sul mercato americano di conseguenza ti espongono come investitore al rischio cambio anche al rischio specifico perché se compri le singole azioni hai il problema però ovvi puoi ovviare a queste due problematiche cioè al rischio cambio e al rischio specifico comprando ad esempio due etf il primo è un etf che investe appositamente in questo asset con cambio aperto quindi senza copertura del cambio e ha un dividend deal vedete del 4,72% al contrario invece il secondo è coperto dal cambio ha un dividend deal leggermente inferiore è del 4,5% comunque è un asset assolutamente interessante anche questo poco conosciuto dagli investitori italiani è ovviamente un asset volatile nei prezzi questo lo vedete anche in questo grafico vedete questo è la storicità recente di questo asset è quotato in Italia da pochi anni è quotato dal 2018 quindi non abbiamo uno storico ampio da analizzare e non ho un ampio storico da farvi vedere quindi vi faccio vedere proprio il grafico storico di questi due asset però in ogni caso quello che noi possiamo vedere è il forte ribasso vedete che c'è stato a marzo no? perché? perché è un asset azionario fondamentalmente un asset azionario americano quindi di fatto ha avuto esattamente la stessa dinamica tra febbraio e marzo che hanno avuto i mercati azionari americani che ha avuto l'S&P 500 che ha avuto il Nasdaq eccetera se vi ricordate il mercato americano ha perso in 3-4 settimane un 30% è stato il ribasso non più incisivo in termini percentuali ma più incisivo in termini di velocità del ribasso perché se noi torniamo con la mente al 2007-2009 quindi quando è scoppiato la bolla del Suprime l'Emman Brother eccetera il mercato ha perso il 50% ma in 18 mesi qui in un mese abbiamo perso il 30% è stato un evento molto più violento da questo punto di vista quindi questo grafico sconta uno shock notevole però era per dirvi che essendo un asset azionario per quanto a buona distribuzione dei dividendi sicuramente soffre un'elevata volatilità io in linea generale molti degli ETF azionari sia quelli che abbiamo già visto quelli che vedremo adesso vi consiglio tutta la vita di trattarli con un approccio non statico quindi non con una strategia statica passiva ma con una strategia dinamica cioè metteteli in portafoglio quando sono impostati a rialzo e quando virano a ribasso cercate di liquidarli questo significa da un lato ridurre il rischio di portafoglio ma diciamo così da contraltare c'è il fatto che nei mesi in cui non avete il titolo in portafoglio non percepite le eventuali cedole erogate però è sicuramente secondo me la soluzione meno peggio più efficiente diciamo così per investire nell'asset azionario poi abbiamo gli azionari ad alto rendimento che vi faccio vedere una immagine tratta da un sito JustETF che è anche in lingua italiana ha una parte gratuita una parte a pagamento e vi permette di fare tante classifiche la parte a pagamento in realtà è quella più interessante costa un 200-300 euro all'anno per dare un'idea se qualcuno può interessare la parte più interessante dicevo quella a pagamento perché vi dà anche tutta una serie di classifiche tra cui quelle del dividend yield in questo caso vedete ho chiesto al sito di farmi la classifica aggiornata oggi e questa è l'immagine fatta proprio oggi pomeriggio di di quelli che sono gli ETF azionari a distribuzione dei proventi ordinati in ordine decrescente di dividend yield vedete che abbiamo in cima due ETF che svettano rispetto agli altri vedete gli altri hanno un 7 6 5% di rendimento che è tanta roba ma sembra poco in confronto vedete i primi due il primo ha un dividend yield del 14 82% il secondo del 13 16 come mai beh perché sono due azionari due TF che investono in azioni collegate alle infrastrutture petrolifere americane quindi società che non è che se la passino benissimo in questo momento in più sono anche poco liquidi come ETF però potenzialmente vedete che sono in grado di erogare dividend yield molto elevate se poi andiamo a vedere però la volatilità che hanno e gli scambi non sono liquidissimi questi asset probabilmente conviene andare a cercare tra altri ETF che magari non sono nelle prime posizioni ma che comunque danno delle entrate più stabili e sono anche meno ballerini di prezzo sebbene la cedola il dividend yield sia leggermente meno generoso diciamo così il secondo della classifica è Invesco questo è molto famoso perché contate in Italia da qualche anno vedete ha un dividend yield del 13% queste sono le caratteristiche vedete investe in azioni americane attive non nel settore dicevo delle infrastrutture energetiche principalmente collegate col petrolio eccetera è a replica sintetica quindi tutti quelli che odiano la replica sintetica lo dovrebbero scartare è ovviamente un sottostante in dollari non ha copertura del cambio quindi di conseguenza voi è vero che lo comprate in euro ma in realtà è sottostante in dollari quindi il rischio cambio è insito nelle quotazioni cioè la quota che voi vedete dell'ETF comprende sia il cambio euro dollaro che l'andamento delle azioni nel paniere la frequenza con cui viene pagata la cedola trimestrale vedete la volatilità è particolarmente elevata c'è un 63% su base annuale ma resta vedete molto alta anche a 3 a 5 anni perché resta un 40 un 37% quindi è un asset molto 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 volatile da prendere con le pinze io già l'anno scorso nella conferenza consigliavo di quello che vi ho appena detto fondamentalmente di trattare questo asset è poco liquido quindi un tema da valutare è tratto un ETF poco liquido ogni investitore a seconda del proprio grado di rischio della propria propensione a correre dei rischi in più o in meno sceglierà l'opportunità di farlo meno chi è più prudente non lo fa chi è più aggressivo lo può fare a cazzo di grossi rendimenti abbiamo detto però in ogni caso se decide di negoziarlo conviene farlo con un approccio dinamico vedete questo è un approccio molto semplice però dai suoi frutti assolutamente sul lungo periodo utilizzo un indicatore trend follower che io ho preso sempre il super trend ma si può usare una media mobile si possono usare anche cose più raffinate a dire il vero si può usare rottura di massimi minimi unita a volatilità in aumento cose di questo tipo quindi si possono raffinare e anche di parecchio la selezione delle tendenze eccetera però al di là di quello il concetto è mantengo o inserisco e mantengo il portafoglio questo asset solo nei momenti in cui è impostato a rialzo quando è impostato a ribasso io questo asset non lo voglio vedere darà anche buoni dividendi buone cedole ma se per incassare una cedola del 7-8% devo subire un ribasso dei prezzi del 20-30-40% allora non so se mi convenga farlo e quindi attenzione perché questo è sicuramente un asset da trattare in questo modo quindi come criteri di selezione per quanto riguarda questi etf che cosa conviene fare beh analizzare la tendenza dei prezzi l'abbiamo già detto preferisco le strategie dinamiche quindi i prezzi devono essere in crescito comunque devono essere stabili è il mio consiglio andare a comprare azioni o etf azionari sfacciatamente ribassisti per incassare cedole secondo me non ha assolutamente senso è più quello che perdi in conto capitale di quello che incassi come cedole quindi stabilità e crescita quando non è in tendenza rialzo non avevano in portafoglio è senz'altro saggio il dividend deal deve essere superiore al 4-5% io direi anche superiore al 5% per avere un migliore rapporto di rischio rendimento bisogna farlo su asset come gli etf che abbiamo visto prima preferred shares piuttosto che aristocrats oppure su singole azioni però che abbiano una loro diciamo così una politica di dividendi stabile nel corso del tempo Eni era uno di questi titoli oggi è uscito da questa lista quest'anno hanno tradito tra virgolette anche i titoli bancari penso Banca Intesa Banca Intesa è stata sbandierata per anni come il titolo che paga il dividend deal del 10% all'anno quest'anno la BCE ha detto benissimo nel 2019 hai fatto utili benissimo li volevi distribuire nel 2020 benissimo non farlo perché tiene l'insaccoccia che stanno arrivando tempi duri e quindi una decisione politica questo rischio politico si chiama da un cerco tecnico ha composto ha cambiato le carte in tavola e quindi sono tutti dati da considerare in più considerate la valuta e la liquidità sono strategie che possiamo adottare con un'ottica temporale sia di breve che di lungo periodo se fate investing di medio se fate trading comprando e vendendo con un approccio più di breve stiamo parlando di azionario quindi l'investitore deve avere un grado di rischio alto possiamo lavorarle queste azioni o questi ETF con dei piani d'accumulo ecco senz'altro tramite il piano d'accumulo che volge a nostro favore le fasi di debolezza sperando che sul lungo periodo poi ovviamente il sottostante si risalga ecco che allora sicuramente gli ETF possono essere una soluzione quindi investing di lungo periodo tramite un piano d'accumulo sugli ETF che abbiamo visto su qualche azione singola si potrebbero anche fare preferisco sempre gli ETF di prima però volendo uno può andare sulle singole azioni oppure strategie attive quindi quelle trend follower che seguono il trend oppure addirittura con dei modelli rotazionali cioè dei modelli che compongono un paniere periodicamente ad esempio una volta al mese fanno una classifica in base alla forza relativa e inseriscono in portafoglio quelli che hanno la maggiore forza relativa l'idea è quella di stare sempre investito sugli asset migliori del momento cioè con la maggiore forza relativa quelli che salgono più degli altri oppure che quando il mercato scende scendono meno degli altri volendo è possibile anche creare un portafoglio rotazionale con un filtro trend follower quindi faccio una selezione in base alla tendenza e tra quelli impostati a rialzo scelgo quelli con la maggiore forza relativa un attimo che bevo mi chiedono alcune persone se parlo anche dell'immobiliare la risposta è sì quindi dopo questo argomento c'è proprio la parte immobiliare certificati a capitale condizionatamente protetto qui entriamo nel campo dei certificati però non come quelli che abbiamo visto prima che era una capitale protetto cioè che a scadenza prevedevano un rimborso minimo in questo caso entriamo in un mondo dove il capitale è protetto in modo condizionato si chiama appunto condizionatamente cioè a scadenza il capitale protetto a patto che non si verifichi quello che viene chiamato evento barriera quali sono i certificati più interessanti io qui per esigenza di sintesi ve ne presento tre ah una cosa che non ho detto all'inizio e che mi sono dimenticato ve la dico adesso che ore sono tra l'altro ah sono le 11 e mezza ok altre mezzorette poi abbiamo finito dicevo una cosa che volevo dire all'inizio che poi in realtà non ho finito era che io questa sera in realtà avevo tante altre cose da dirvi cioè la selezione che ho fatto qui stasera è una selezione molto ridotta in realtà di tutte quelle cose che avevo trovato eh avevo trovato degli etf a scenari curiosi ho trovato tanti certificati che secondo me sono interessanti eh e quindi eh questa sera ho dovuto fare proprio per esigenza di tempo vedete sono già passate due ore e mezza il tempo non so per voi per me è sicuramente volato e quindi eh mi sono dovuto dare diciamo così una calmata ho dovuto usare il dono della sintesi no per quanto possibile eh e quindi vi faccio vedere solo tre certificate capitale e condizionatamente protetto questa sera però in realtà quello che volevo dire è che questa videoconferenza di oggi in realtà è un punto di partenza io questa sera volevo un attimo farvi vedere come si ragiona nel discorso entrata periodica farvi vedere quali possono essere le varie possibilità degli strumenti finanziari e farvi vedere qualche esempio facendovi vedere in modo sintetico quali sono i criteri di selezione le strategie eccetera quello che noi faremo da qui alle prossime settimane ai prossimi mesi è periodicamente degli approfondimenti simpe e gratuiti conferenze come questa sera articoli sul sito oppure sul mio gruppo chiuso che vanno ad approfondire specifiche tematiche specifici prodotti che magari questa sera non sono riuscito a trattare quindi in realtà questo di stasera è il punto di partenza di un progetto gratuito molto più ampio destinato però all'obiettivo entrata periodica quindi dicevo ho identificato tre certificati a capitale condizionatamente protetto il primo è questo con sottostante il Fuzimib è un cash collect memory cosa vuol dire? Cash collect vuol dire che è una tipologia di certificato che ha l'obiettivo di pagare una cedola periodica tutti i cash collect i Fenix gli express hanno come obiettivo quello di pagare una cedola periodica quindi sono proprio specifici per l'obiettivo di entrata periodica il sottostante in questo caso è l'indice italiano Fuzimib questo è un prodotto emesso da Fontobel ed è stato emesso in un momento particolarmente propizio perché vedete data di emissione 13 marzo 2020 è stato emesso diciamo così nella parte finale la parte clou con il massimo della volatilità e verso il minimo del crollo di marzo quindi si è riusciti a emettere in quel momento storico particolare una serie di certificati che hanno barriere particolarmente profonde e cedole elevate in proporzione a quello che storicamente quel sottostante permette di emettere quindi è un certificato con una barriera discreta cioè attiva sulla scadenza profonda quindi distante in termini percentuali dal valore del sottostante odierno con una cedola memory come dice il nome a memoria quindi che se in una data di rilevazione non viene pagata non è persa viene messa in un comodino e se nelle successive date di rilevazione si verifica nuovamente l'evento viene recuperata quindi è una cedola che non è persa ma può essere recuperata e paga una cedola che tra l'altro è reddito diverso e quindi anche permette di costruire di recuperare minusvalenze è un certificato che se non viene richiamato in anticipo scade vedete nel 2025 quindi è una scadenza media vediamo un po' alcune caratteristiche la cedola è annuale ed è del 3,94% può sembrare ridotta come cedola in realtà se consideriamo che è su un solo sottostante su un indice con barriera discreta e profonda questa cedola diventa sicuramente più interessante da questo punto di vista soprattutto se si considera come vedremo fra un attimo che questo certificato marzo potrebbe anche forse essere richiamato in anticipo e quindi potrebbe essere un 4% che un investitore si può guadagnare da qui a marzo se dovesse essere richiamato altrimenti se resta quotato non è un problema si incassa questo 3,94% di cedola e lo si lascia in vita per un altro anno la cedola la barriera abbiamo detto di scritta quindi attiva solo a scadenza questa è la fotografia del sottostante vedete lo strike cioè il prezzo iniziale del sottostante era 18.200 punti quindi il prezzo che aveva il sottostante nel momento in cui il certificato è stato creato in questo momento vedete siamo a 19.100 punti questo valore spot è il valore di mercato quindi vogliamo dire che siamo sopra strike quindi se oggi fosse la data di rilevazione fosse attiva l'opzione autocall questo certificato verrebbe richiamato in anticipo la barriera vedete particolarmente profonda perché posta 9.100 punti quindi è posta più del 50% sotto livello attuale quindi per andare a barriera il Fuzzimib l'indice italiano deve perdere il 50% tutto può essere sui mercati finanziari però sicuramente non è all'ordine del giorno che un indice si deprezzi del 50% come si è strutturato vedete il discorso della cedola qui vedete la sintesi queste immagini che vi sto facendo vedere tra l'altro tutte queste qua questa 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 e quest'altra sono tutte tratte da cedla per chi fa certificati questo è un sito da utilizzare io non ci guadagno nulla nel fargli pubblicità però è un sito fatto da Pierpaolo Scandura che tra l'altro in Italia in tema di certificati è quello più bravo di tutti quello che la sa più lunga di tutti e ha fatto questo sito fatto veramente molto bene molto completo che per chi fa certificati è sicuramente da utilizzare ripeto non è una marchetta perché non guadagno da cedda lo faccio vedere proprio per completezza dicevo questo certificato cosa fa immaginiamo che un investitore lo voglia comprare oggi questo certificato si compra in area 99 in area 100 quindi si compra più o meno alla pari lo si mantiene in portafoglio poi cosa succede succede che la prima data di rilevazione l'11 marzo del 2021 quindi l'11 marzo del prossimo anno l'investitore che ce l'ha in portafoglio si trova davanti a tre scenari il primo scenario è che il prezzo del sottostante quindi del Fuzzi è maggiore dello strike quindi il prezzo del del Fuzzi è maggiore vedete di 18.200 punti di 202,50 punti in questo caso il certificato cosa succede? scatta l'opzione autocoll cioè il richiamo anticipato quindi il certificato viene rimborsato mantiene la protezione del capitale rimborsa 100 paga la cedra di 394 dal giorno dopo non esiste più secondo scenario il prezzo del Fuzzi è minore dello strike quindi è minore di 18.200 punti ma è superiore alla barriera quindi è superiore a 9.100 punti ecco che a questo punto il certificato che cosa fa? non scatta l'opzione autocoll quindi il certificato non viene richiamato in anticipo paga la cedola e si va alla data di rilevazione successiva questo è lo scenario ideale per l'investitore perché incassa la cedola il certificato resta in vita e c'è la possibilità di incassare anche le cedole future poi abbiamo il terzo scenario quello negativo cioè alla data di rilevazione il Fuzzi è minore della barriera a questo punto non si percepisce la cedola il certificato ovviamente non viene richiamato in anticipo e si va alla successiva data di rilevazione però visto che la barriera è a memoria non viene persa ma viene messa in un cassetto se l'11 marzo del 2022 oppure dell'anno dopo dell'anno dopo ancora si verifica nuovamente la condizione di pagamento cedola non viene pagata solo la cedola in corso ma vengono pagate anche le cedole non pagate in precedenza quindi di fatto si recuperano le cedole non pagate si chiama effetto memoria è una protezione utile nei certificati se il certificato non viene mai richiamato in occasione delle varie date di rilevazione si arriva alla naturale scadenza nel 2025 qui si tira una riga e si guarda la barriera se il fuzzi è maggiore della barriera 9100 punti il certificato mantiene la protezione rimborsa 100 e paga la cedola se invece il sottostante è minore della barriera il certificato rimborsa la performance negativa come si dice in gergo tecnico del sottostante quindi si perdono soldi in questo caso quanto si perde per calcolarlo si applica una formula che è prezzo finale del sottostante diviso strike cioè diviso il prezzo iniziale del sottostante moltiplicato per 100 ovviamente a priori non è possibile calcolare questo valore perché non sapendo né se il certificato andrà a barriera speriamo di no né quale sarà il prezzo finale è chiaro che non possiamo calcolare quanto sarà in caso di evento barriera rimborsa possiamo fare delle simulazioni se vogliamo ma non abbiamo certezze e questo dicevo un certificato secondo me molto interessante anche perché lavora barriera discreta profonda su un sottostante che è un indice quindi un paniere ponderato secondo me per il buon padre di famiglia è sicuramente un certificato a capitale condizionatamente protetto da valutare poi abbiamo un altro certificato questo è stato emesso nei giorni scorsi con sottostante ENI è sempre un cash collect memory quindi è sempre un cash collect quindi un certificato a capitale condizionatamente protetto che paga una cedola periodica quindi va a soddisfare l'obiettivo entrata periodica si chiama memory perché ha la cedola con effetto memoria se non viene pagata in un'elevazione non è persa ma viene recuperata eventualmente in seguito il meccanismo di prima in questo caso il certificato dicevo è costruito sul titolo ENI ed è stato emesso nei giorni scorsi avendo la barriera discreta quindi attiva sulla scadenza e profonda il 50% è uno dei certificati con la barriera più profonda che esista sul mercato in questo momento vedete il livello di barriera è 3,41 se noi andiamo a vedere su CEDLAB i certificati emessi sul titolo ENI con barriera 3,41 scusatemi i certificati con sottostante ENI con barriera discreta andiamo a ordinarli in funzione della barriera dalla più bassa in poi ecco che questo è il secondo per barriera c'è un altro con barriera più profonda 2,85 va da memoria però paga pochissimo di CEDLAB quindi quell'altro è vero non ve l'ho selezionato perché è vero che ha una barriera più profonda ma paga pochissimo di CEDLAB in questo caso abbiamo una barriera leggermente più alta ma comunque molto protettiva parliamo di 50% e abbiamo una CEDLAB che è doppia rispetto anzi più che doppia rispetto all'altro quindi questo secondo me tra il rapporto rischio rendimento che vi citavo all'inizio è senz'altro da privilegiare questo è un certificato che scade relativamente presto nel 2023 quindi non scade domani ma neanche troppo lontano rispetto al 2025 che abbiamo visto prima paga una cedola eccola qua vedete del 3,40 su base semestrale quindi di fatto paga un 6,80 su base annuale anche qui a ogni data di rilevazione c'è l'effetto memoria della cedola e c'è l'opzione auto call quindi anche qui immaginiamo che un investitore lo compri oggi oggi vedete lo si comprava in area 99 quindi lo si comprava leggermente sotto la pari grazie al fatto che oggi il prezzo di Eni era debole poi cosa succede succede che immaginate di acquistarlo oggi a 99 di mantenerlo in portafoglio fino alla prima data di rilevazione ad aprile del 2021 ad aprile del 2021 abbiamo le solite tre opzioni si guarda lo strike e si guarda la barriera seni è sopra lo strike quindi seni è sopra a 6,81 il certificato rimborsa in anticipo rimborsa 100 mantiene quindi la protezione capitale paga la cedola di 3,40 se il sottostante Eni è minore dello strike minore di 6,81 ma superiore alla barriera di 3,40 allora il certificato paga la cedola di 3,40 rimane in vita e si va alla data di rilevazione poi di ottobre terzo scenario Eni è minore della barriera è minore di 3,40 non si percepisce la cedola non è persa perché ha effetto memoria si va alla data di rilevazione successiva se non viene mai richiamato in anticipo data di rilevazione dopo data di rilevazione si arriva alla scadenza del 2023 lì si tira una riga e si guarda solo la barriera se il prezzo è sopra la barriera il certificato mantiene la protezione rimborsa 100 paga la cedola se sotto la barriera paga la performance negativa del sottostante quindi il capitale perde la protezione e si applica la formula che dicevamo prima prezzo finale del sottostante diviso prezzo iniziale del sottostante che è lo strike moltiplicato per 100 un altro titolo che secondo me un altro certificato scusatemi che secondo me è interessante qui alziamo la sticella del rischio rispetto ai due certificati che abbiamo visto prima l'alziamo per un motivo molto semplice che mentre nel primo caso avevamo un solo sottostante prima un indice che è una media ponderata quindi gli indici sono la parte più prudente le singole azioni sono più volatili quindi sono più rischiose quindi qui avevamo comunque un singolo sottostante prima un indice poi un'azione qui in questo caso abbiamo tre sottostanti il certificato infatti è un cash collect memory worst off cosa vuol dire worst off vuol dire che ai fini della protezione del capitale si prende riferimento la performance del peggiore worst off appunto dei titoli che compone il paniere e quindi in questo caso capite che se abbiamo tre titoli è chiaro che sono tre le possibilità che si vada a barriera mentre prima era una solo il titolo Fuzzi ad esempio in questo caso abbiamo tre titoli e di questi tre titoli si prende quello che è andato peggio come performance come riferimento e quindi stiamo alzando l'asticella del rischio pur secondo me rimanendo su un grado di rischio accettabile però sicuramente questo certificato è quello più pericoloso rispetto a quello che abbiamo visto prima non tutti i portafogli secondo me possono contenere questo certificato detto in altri termini giusto per capirsi se mentre i primi due secondo me sono idonei al buon pari di famiglia bisogna verificarlo ma potenzialmente possono esserlo ecco che in questo caso qualche dubbio in più sì questo è un grado di rischio secondo me medio alto perché mi piace questo certificato beh innanzitutto perché comunque ha la barriera discreta perché ha l'effetto memoria della cedola perché ha una scadenza relativamente breve vedete luglio del 2022 perché si compra sotto 100 quindi sono tutti aspetti positivi come aspetto positivo anche la cedola vedete è un 2,60 pagato come si dice su base su base trimestrale quindi da un punto di vista operativo insomma fondamentalmente si tratta di un cos'è 2,60 per 4 è un 10 è un 10 e 40 all'anno quindi è un dividendo importante no? come cedole come frusso annuale se vengono pagate tutte e tra l'altro costituisce reddito diverso per cui c'è anche efficienza fiscale ma l'altra cosa che mi piace di questo certificato è il sottostante che sono vedete Fineco Poste Enexi cioè sono dei titoli che da un punto di vista operativo dovrebbero avere una maggiore stabilità rispetto ai classici titoli bancari i titoli bancari non so popolare dell'Emilia Romagna Unicredit intesa oggi sono dei grossi carrozzoni sono chiamati a una svolta epocale oggi i modelli di riferimento sono Fineco Banca Mediolanmo cioè quelle banche che hanno sono basate principalmente sui costi variabili non hanno sedi eh da antico Egito da faraone con no il pavimento in marmo le colonne decine di impiegati che non si sa bene sempre che cosa facciano eh ma soluzioni snelle dove c'è il promotore pagato a cottimo se eh lavora e eh vende fa prodigioni per l'azienda viene pagato anche bene altrimenti ah ma in pazienza ecco il business il modello che va oggi è quello basato sui costi variabili non solo nel mercato bancario ma in generale però il mercato delle banche questo è particolarmente sensibile quindi le grosse banche tradizionali eh sono chiamate nei prossimi anni a cambiare pelle fondamentalmente passaggio molto delicato perché non è che puoi fare un licenziamento di massa di chi oggi lavora quindi insomma tra pensionamenti e prepensionamenti ricambi pian pianino si ridurra al personale finché cambieranno un po' struttura quindi dicevo quei modelli oggi di banche tradizionali li vedo svantaggiati eh sono un asset secondo me le banche tradizionali come dicevo prima che siccome sottoperformerà i mercati sul lungo periodo al contrario invece le banche come Fineco eh come Nexi eccetera sono situazioni molto più dinamiche su Nexi non è una banca è una casa di credito se vogliamo un circuito però diciamo così assimilabili a questi modelli sono sicuramente costi variabili come modelli e sono senz'altro molto più interessanti posta in realtà eh è una cattedrale anche lei in realtà però è molto più dinamica nel corso degli ultimi anni e quindi insomma sono tre realtà molto più interessanti secondo me da un punto di vista operativo e prospettico come sottostanti e quindi eh mi sono piaciuti e eh da questo punto di vista insomma ve li ho voluti eh presentare secondo me è un certificato interessante le caratteristiche sono quelle che abbiamo descritto prima no quindi alle date di rilevazione in questo caso abbiamo solo la caratteristica che dobbiamo selezionare è tre ehm tre sottostanti invece di uno quindi in questo caso come funziona che è l'opzione autocall scatta se tutti e tre i sottostanti sono superiori allo strike se anche uno solo è sotto lo strike il certificato non viene richiamato in anticipo per essere pagata la cedola tutti e tre devono essere superiori allo strike se anche uno solo alla barriera scusatemi se anche uno solo non è superiore alla barriera ma è inferiore la cedola non viene pagata a scadenza abbiamo due scenari di fatto se anche qui si tira la linea sulla barriera e si guarda se tutti e tre i sottostanti sono uguali o superiori come prezzo alla barriera il certificato mantiene la protezione rimborsa 100 e paga l'ultima cedola se invece anche solo uno dei sottostanti è sotto la barriera allora il certificato perde la protezione si applica alla formula prezzo finale diviso prezzo iniziale moltiplicato per 100 se più di un sottostante sono sotto barriera scadenza si prende tra i due o tra i tre che sono sotto barriera quello che ha registrato la performance peggiore nel corso di vita del certificato quindi è un certificato che ha un grado di rischio sicuramente più alto rispetto a quelli che abbiamo visto precedentemente vediamo adesso il discorso immobiliare l'abbiamo anticipato prima una delle anticipazioni diciamo un tempo investire era facile compravi BTP o compravi immobili oggi l'immobiliare è a dura prova abbiamo detto prezzi che tendono a diminuire ristrutturazioni perché spesso fa l'interno tra l'altro il diciamo così il panorama immobiliare italiano è abbastanza adattato è stato costruito negli anni 60 negli anni 70 in larga parte quindi oggi cominciano a emergere in modo molto evidente necessità di manutenzione straordinaria eccetera quindi aumento dei costi incertezza fiscale tasse elevate lo smart working che probabilmente cambia le dinamiche delle città cambia le dinamiche di tutto quello che è l'affitto a livello diciamo così da ufficio ma anche i negozi fisici se ci pensate sono messi in grossa difficoltà grazie a causa non grazie a causa dell'online quante librerie quanti negozi di oggettistica eccetera di cartoleria o cose di questo tipo chiudono perché soccombono rispetto a un amazon o comunque a un e-commerce quindi è un settore sicuramente quello degli affitti immobiliari da prendere con le pinze però nonostante questo se uno volesse investire in questo settore che cosa può fare beh la classica compro l'appartamento compro il negozio e lo affitto quindi c'è l'immobile fisico ci possono essere i rates che in poche conoscono dopo vediamo che cosa sono ci possono essere gli etf immobiliari oppure ci possono essere i fondi di investimento chiusi vediamo un esempio di tutti questi tranne l'immobiliare fisico vediamo un esempio degli altri parliamo dei rates che cosa sono i rates allora rates è un acronimo significa real estate investment trust non sono altro che delle società che comprano e gestiscono immobili immobili che possono avere destinazioni diverse possono avere destinazioni non so commerciali piuttosto che residenziali piuttosto che sanitarie assistenziali sono molto di moda in America ma non solo diciamo così prendere un immobile e diciamo così attivare una struttura ad esempio per come si chiama mi scuse la parola case protette case di cura eccetera sono azioni chiamarle così quotate sul mercato regolamentato non sono quotate in Italia sono azioni americane quindi sono quotate a Wall Street oggi sono veramente tanti i rates quotati sono veramente tante le tipologie e gli assets su cui vanno a investire hanno una caratteristica e del motivo per cui ve li cito pagano dividendi molto molto generosi perché fondamentalmente distribuiscono per motivi fiscali eccetera almeno il 90% del reddito imponibile generato dalla società quindi diciamo così il 99% del reddito che la società fa lo distribuisce agli azionisti e quindi diciamo che una grossa fetta di utili va in tasca agli azionisti ecco perché sono così interessanti perché proprio per avere agevolazioni fiscali cose particolari devono distribuire ampiamente gli utili quindi la distribuzione di dividendi è molto interessante selezionarli però non è così facile non è così facile perché perché se noi andiamo su internet andiamo su google e diciamo raise e cerchiamo non so parole chiave del tipo alto dividendo high dividendo cose di questo tipo troviamo tantissime tipologie di raise tantissime società tantissimi etf eccetera il problema è uno che vanno accuratamente scremati perché perché dobbiamo trovare non solo un dividendo alto dobbiamo trovare anche una certa stabilità di prezzo e di dividendo erogato vediamo alcuni esempi così comprendete esattamente qual è la logica prendiamo questo questa è una società in Italia non la conosciamo ma in America è ovviamente molto famosa come raise è digital reality trust è una società americana che investe in un asset molto particolare immobiliare in data center quindi investe fondamentalmente in tutti quei centri e laboratori dati in tutte quelle strutture dove fondamentalmente diciamo così sono al servizio di internet quindi dove ci sono non so gli aruba americani no i provider americani eccetera che è il business del futuro fondamentalmente perché internet è sempre più dominante nella vita delle persone quindi mentre magari l'immobile commerciale è in crisi l'immobile a uso ufficio è in crisi perché anche in America c'è lo smart working ecco che invece i centri gli immobili affittati e locati a data center a provider eccetera invece sono fiorenti perché questo è un mercato che cresce quindi vedete abbiamo una tendenza generale dei prezzi al rialzo vedete che anche nella fase del 2007 2008 le quotazioni fondamentalmente hanno retto abbastanza bene quindi abbiamo una certa stabilità di prezzo questo è il primo aspetto che è determinato dal fatto che investe in un asset immobiliare particolarmente propizio in questo momento storico ma un'altra caratteristica anche una buona stabilità vedete di dividendo questo è il dividendo vedete che è stabile crescente anno dopo anno questa è la seconda caratteristica che devono avere questi prodotti quindi asset immobiliare ok stabilità più o meno di quotazione di prezzo e soprattutto stabilità di dividendo erogato vedete che anche nella fase del 2007 2008 il dividendo è stato stabile crescente anche oggi 2020 il dividendo è stabile crescente ecco questo è un esempio di race questo è un esempio di buona selezione di un prodotto poi per carità noi non possiamo sapere se questa società continuerà a avere una quotazione sempre a rialzo e un dividendo crescente anno dopo anno questo non lo possiamo certo sapere però sulla carta è una società ben gestita con dei buoni immobili su un settore ok a livello immobiliare e tutto questo dà dei buoni risultati attenzione però perché come dicevo prima per l'investitore italiano quando si lavora sull'azionario americano che siano race che siano singole azioni c'è da fare i conti con il discorso della doppia tassazione facciamo un esempio molto semplice così lo chiariamo ora questo titolo questo race quota 157 dollari immaginiamo di comprare 100 quote spendo quindi 15.700 erotti dollari pago un dividendo di 1,12 paga su base trimestrale però facciamo finta che io incasso questo dividendo in questo trimestre incasso l'ordo 1 euro e 12 ad azione avendo io 100 azioni 100 per 1,12 mi dà 112 euro di dividendo attenzione però perché questo dividendo viene deportato della ritenuta estra americana del 15% puff 16 dollari e 80 me li prendono loro quindi a me in Italia arriva il netto 95,20 quando arriva sul confine lo Stato italiano si prende l'altro 26 la seconda imposta mi prendono quindi altri 24 euro e 75 morale della favola io mi metto in tasca 70 erotti cioè da 112 sono arrivato a 70 voi capite che un 35 di tasse un 40 di tasse 26 36 40 e praticamente incide parecchio qualcuno dirà c'è la procedura per chiedere il rimborso la rave la fava tutto vero però come dicevo prima se dovete incassare 1000 euro di dividendo allora si ha senso chiedere il rimborso attivare questa procedura se dovete recuperare 50 60 70 euro può darsi che siano più i costi e il tempo burocratico che altro questo è un dato a tenere in considerazione ripeto perché spesso molte persone vi fanno vedere il fanno sventolare il dividendo elevato di questi prodotti poi in realtà se vai a vedere c'è la doppia tassazione le commissioni per comprare prodotti quotati in america che se non ha interactive broker piuttosto che train station ti costano parecchio comunque un broker estero se usi le banche italiane sulle commissioni estere magari sono anche elevato magari se qualcuno ha la banca tradizionale manco all'accesso al mercato estero quindi questo complica le cose tenete sempre a mente questi aspetti un altro un altro race che ha le stesse caratteristiche è questo vedete reality income anche qui vedete abbiamo una certa stabilità di prezzo questo in realtà vedete ha subito il 2008 ha subito anche qui a marzo quindi è meno stabile rispetto a quell'altra soluzione a livello di di erogazione dei proventi però comunque ha una tendenza di lungo periodo al rialzo e anche in questo caso vedete abbiamo una buona politica dei dividendi erogati quindi vedete un dividendo stabile crescente nel corso del tempo quindi i due ingredienti che abbiamo descritto prima sono assolutamente contenuti questi sono i dividend yield attuali il primo che vi ho citato quello che a me piace di più il digital reality ha un dividend yield scusatemi del 282 non è da strapparsi le vesti non è da applausi rispetto al 4% che avevamo detto di media prima ma sicuramente ha le caratteristiche per fare bene il prezzo stabile rialzista e soprattutto il business e soprattutto il dividendo insomma mi fanno dormire sogni abbastanza tranquilli gli altri invece vedete che hanno dei dividendi già più alti 4,52 4,06 Avalon Bay eccetera non trovate vedete in questa classifica i race con il 9 12 10% perché non li trovate? perché non hanno stabilità di dividendo di prezzo e quindi li ho scartati questo è un aspetto che volevo sottolineare quindi quando dobbiamo analizzare i race che cosa dobbiamo fare? beh dobbiamo guardare l'asse cioè qual è il sottostante immobiliare l'assistenziale è un negozio è un assistenziale è un data provider ecco questo è un aspetto fondamentale è un settore in crisi o no? il data provider non è un settore in crisi è un settore in crescita il settore commerciale uffici è un settore in crescita in difficoltà scusate poi dobbiamo guardare abbiamo detto la tendenza di prezzi di lungo periodo che sia stabile quanto meno o che sia in crescita meglio ancora il dividend deal deve essere maggiore del 3, 4, 5% più è alto e meglio è però attenzione che serve sia stabilità che altro dovete guardare la politica dei dividendi abbiamo detto il dividendo deve essere stabile e possibilmente in crescita comunque la stabilità è importante attenzione alla valuta e alla doppia tassazione dei dividendi il tema della liquidità in realtà sul mercato americano quasi non si pone perché questi sono tutti asset liquidi per cui non è una problematica li possiamo trattare in tanti modi li possiamo trattare con un approccio di breve periodo quindi con una gestione dinamica quindi compro e vendere a seconda delle puntate condizioni di mercato quindi con strategie breakout piuttosto che trend follower a seconda del carattere del sottostante oppure posso adottare anche un approccio di investing di medio-lungo periodo magari con un piano d'accumulo soluzioni di questo tipo attenzione perché comunque stiamo parlando di asset azionari di fatto quindi il carattere rischio è medio-alto direi più alto che medio comunque il dato è quello li possiamo anche qui condire in tanti modi io se dovessi battezzare le strategie che preferisco su questi asset sono il piano d'accumulo e le strategie attive trend follower o rotazionali perché si sposano questo asset anche con il rotazionale quindi trend follower o pack secondo me sono l'ideale il compro e tengo 30 anni mi piace poco perché magari il business interessante oggi non lo hai domani quindi con il pack è un conto perché comunque vai a comprare a prezzi man mano più bassi basta un rimasto magari per tornare a pareggio in caso di difficoltà con l'approccio trend follower quando il mercato inverte tu esci liquidi e ti togli dalle scatole un asset che non è più performante lo ricomprerai un domani se si torna performante questo è senz'altro un valore quindi le strategie attive ti migliorano la vita da questo punto di vista non è magari l'entrata tutti i trimestri ma è il male minore per gestire secondo me l'azionario poi esistono gli etf immobiliari gli etf immobiliari sono etf che fondamentalmente che cosa fanno comprano azioni che sono attive nel settore immobiliare quindi di fatto sono etf settoriali molti investitori dicono che gli etf immobiliari sono uno strumento di diversificazione rispetto all'azionario in realtà se uno va a fare due conteggi lo si vede anche a occhio in realtà ma se uno prende un etf azionario un etf immobiliare dello stesso settore quindi un etf america non so S&P 500 come sottostante e un etf immobiliare americano nota che sono correlati positivamente quando sale uno sale l'altro quando scende uno scende l'altro questo per dire che sarei molto cauto nel definire l'etf immobiliare come uno strumento di diversificazione quindi di riduzione del rischio di portafoglio quando in realtà è un doppione dell'azionario un settoriale azionario quindi se tu compri sia azioni che etf immobiliare non stai diversificando ma stai concentrando perché stai inserendo due asset volatili in portafoglio comunque detto questo sono asset che potenzialmente possono avere dei risultati ve ne presento un paio sono quotati sui mercati italiani questo è un iShares come emittente investe in azioni che investono nel settore immobiliare americano e si caratterizzano per avere un dividend deal queste azioni che vengono inserite in portafoglio almeno superiore al 2% è uno strumento vedete replica fisica senza copertura cambio ha un ter dello 0,4 all'anno paga un dividendo su base trimestrale al dividend deal è un 3,89 questo è il suo grafico storico vedete che subisce grosse oscillazioni di prezzo e quindi io vi consiglio di trattarlo con un approccio trend follow comunque con un approccio dinamico questo è quello che dicevano nel 2008 era meglio essere fuori da questo asset era meglio poi rientrare lungo questa fase rialzista un altro secondo me che può essere interessante sempre in quest'ottica è quest'altro etf in questo caso siamo a casa della Lixor come società di gestione in questo caso è un etf globale cioè questo comprazioni di società immobiliari però di tutto il mondo quindi paesi sviluppati però è a replica sintetica quindi per chi ama la replica fisica questo non andrebbe bene è a cambio aperto quindi non ha nessun meccanismo di copertura ha un terrore dello 0,45 paga il dividendo su base semestrale e vedete un dividendo del 4,21% questo è l'andamento del prezzo anche questo secondo me si presta maggiormente a strategie dinamiche di gestione della posizione se io devo andare a lavorare sugli etf immobiliari li devo selezionare io qui ve li ho fatti vedere sinteticamente ora gli etf immobiliari quotati in Italia sono numericamente pochi però se io devo andarli comunque a selezionare ad esempio su un altro mercato ad esempio apro un conto con un broker estero che mi permette di lavorare sul mercato americano ecco che allora magari posso andare a selezionare immobili e scusatemi etf immobiliari rezzo qualsiasi prodotto come si dice non armonizzato e quindi mi si amplia la scelta il panorama di selezione cosa posso fare innanzitutto guardo l'asset class residenziale commerciale eccetera come dicevamo prima se è disponibile questa cosa cioè non tutti magari hanno questa differenza magari in Italia quelli quotati qua da noi non è che hanno queste differenze cerco l'azionario scusatemi cerco l'immobiliare americano residenziale cerco l'immobiliare americano sanitario eccetera non è possibile oggi non sono quotati così raffinati nella selezione però un asset da tenere in considerazione poi devo ovviamente avere una distribuzione dei proventi quindi quelli ad accumulo di scarto il divine di deve essere superiore al 3 meglio ancora 4-5% dal mio punto di vista possiamo guardare anche la frequenza di distribuzione se abbiamo necessità di avere delle entrate periodiche frequenti altrimenti possiamo usare tranquillamente la frequenza annuale però se dobbiamo arrivare per forza a fine mese perché ci manca l'ossigeno è meglio una frequenza sicuramente mensile e non tutti quelli quotati in Italia hanno una frequenza mensile anzi nessuno etf immobiliare italiano ha frequenza mensile in questo momento di erogazione della cedola poi guardare la valuta ovviamente perché il risrocambio incide la liquidità deve essere sempre superiore ai 500.000 pezzi e a parità di condizioni il costo di gestione più basso oppure sempre a parità di condizioni di condizioni cioè a parità di altre condizioni privilegiare quello a replica fisica e non a replica sintetica queste cose le abbiamo già dette quindi non stiamo a ritornare sul nostro cosa poi c'è il discorso l'ultimo poi abbiamo concluso che è il discorso dei fondi immobiliari chiusi i fondi immobiliari chiusi sono un asset che in Italia in realtà pochi conoscono ne ho selezionato uno emesso da meglio l'anno real estate ora partiamo dalle basi che cos'è un fondo immobiliare chiuso allora i fondi immobiliari chiusi sono praticamente dei fondi comuni di investimento quindi insomma sono degli organismi collettivi di risparmio che però si caratterizzano perché il denaro degli investitori viene utilizzato per acquistare e per gestire degli immobili fisici quindi non è un fondo comune che compra azioni e obbligazioni come quelli che abbiamo visto fino adesso ma compra degli immobili fisici il fondo è chiuso cosa vuol dire chiuso vuol dire che una volta che è stato costituito il capitale del fondo non possono essere create delle nuove quote quindi mentre i fondi che abbiamo visto prima di azioni o di obbligazioni sono fondi aperti quindi il numero di quote varia di giorno in giorno le quote possono essere create o cancellate in questo caso invece il numero di quote è chiuso e fisso una volta che è stato creato il paniere c'è stata la suddivisione di quote le quote non possono più essere aggiunte o create ovviamente queste quote sono quotate quindi questo è un prodotto assolutamente quotato sul mercato regolamentato quotato su borsa italiana quindi c'è un mercato regolamentato alla base è un asset liquido non liquidissimo comunque liquido ci sono scambi c'è trasparenza di prezzo lo possiamo comprare con un clic del computer andando in banca quindi da questo punto di vista non ci sono problemi non c'è tra l'altro neanche il lotto minimo quindi lo possiamo negoziare senza nessun tipo di problema di vincolo a due prezzi questo è l'aspetto curioso vedete abbiamo prezzo di mercato 2,15 euro quello che cos'è? è il prezzo di mercato quello che voi vedete sul book di negoziazione ed è quello dettato dall'incontro tra domanda e offerta uno vuole comprare uno vuole vendere si incontrano sul prezzo si incontrano sul book e tac avviene lo scambio avviene il prezzo di mercato si concretizza a fianco di quel prezzo vedete sotto c'è valore di peristia è il cosiddetto NAV dovete sapere infatti che per legge i fondi immobiliari chiusi ogni sei mesi devono richiedere a una agenzia specializzata indipendente di stimare il valore degli immobili contenuti nel portafoglio e di conseguenza dopo questa stima a valore di mercato corrente degli immobili si calcola il valore del NAV cioè della singola quota in base al prezzo di mercato degli immobili detenuti in portafoglio e quindi ogni sei mesi il valore del NAV viene modificato in funzione di quello che risulta da questa perizia indipendente quasi tutti i fondi immobiliari quotano a sconto vuol dire che la quotazione di mercato è più bassa rispetto al valore del NAV questo è un dato normale cioè considerate che un 20-30% di sottovalutazione è assolutamente normale colpa un po' della poca liquidità dell'asset colpa del fatto che un domani questo fondo dovrà essere liquidato patrimonio immobiliare parlo prima della scadenza naturale del fondo in modo tale da liquidare i possessori delle quote e quindi tutti questi elementi sicuramente inficiano e quindi di conseguenza il mercato quota sempre questi asset a sconto di un 20-30% a volte però questi sconti diventano anche del 50% e qui le cose diventano un po' più interessanti in questo caso lo sconto è abbastanza normale se vogliamo un 37,5% paga un dividendo periodico i dividendi non sono alto che il frutto degli affitti che vengono distribuiti ai possessori delle quote e mediamente questo dividendo in questo momento è circa il 4-5% il 4,7% del come dividendi il cos'altro dire entro la data di scadenza e dopo vediamo un attimo di quantificare questa data di scadenza l'obiettivo della società è quello di dismettere gli immobili di incassare quindi il cash in modo tale da liquidare il capitale e i possessori delle quote quindi di fatto è un fondo che ha una scadenza viene costituito oggi con il denaro si comprano degli immobili questi immobili vengono affittati vengono rivenduti eccetera e poi fra dieci anni si cerca di liquidare tutto e distribuire i proventi agli azionisti che è i possessori delle quote che nel mente anno dopo anno hanno incassato i dividendi questo dividendo particolare emesso da Mediolanum Real Estate ha alcune caratteristiche dal mio punto di vista innanzitutto uno degli aspetti fondamentali quando si analizza un fondo immobiliare chiuso è andare a vedere la qualità degli immobili detenuti in portafoglio cioè se gli immobili sono di qualità è senz'altro è un fondo da valutare se gli immobili sono a Quarto Giaro a Bari Vecchia o adesso per fare dei nomi di posti che non hanno una fama particolarmente ambita in ambito immobiliare è chiaro che quell'ETF quel fondo chiuso non sarà particolarmente sexy sarà da scartare quindi il primo aspetto da valutare è la qualità dell'asset all'interno del portafoglio è la qualità degli immobili in questo caso il fondo ha degli immobili senz'altro interessanti quindi primo gli immobili detenuti in pancia sono di qualità e sono di qualità anche gli affittuari come PAM e tante altre catene di supermercati è un fondo gestito bene da questo punto di vista io sapete non sono un amante di Mediolanum o dei suoi fondi ma in questo caso la società è ben gestita in base allo sconto cioè in base all'ultima perizia vedete c'è uno sconto del 37% un 37% abbastanza ordinario quindi non è eccezionale ma comunque è meglio di niente e se era meno 20% ecco ero preoccupato se era meno 50% era meglio ma è comunque interessante il dividendo abbiamo detto che è a cavallo del 4-5% come dividend yield allora la scadenza naturale questo volevo sottolineare di questo fondo sarebbe nel 2021 quindi in teoria da scadenza naturale questo fondo dovrebbe scadere il prossimo anno però in realtà nei giorni scorsi quindi una storia abbastanza recente la società si avvalsa di una possibilità assolutamente legale di prorogare la scadenza di altri tre anni portandola quindi di fatto a fine del 2024 quindi la scadenza che doveva essere il 2021 in realtà è stata prorogata legalmente su richiesta della società al 31-12-2024 questo ovviamente è diciamo così la società fondamentalmente ha voluto guadagnare tempo per poter dismettere con meno fretta in un periodo non con quotazioni legate al covid il suo asset immobiliare in modo tale da evitare di essere penalizzata o da pregiudicare i risultati dell'investimento quindi ha chiesto e ottenuto tre anni in più di proroga per poter liquidare i patrimoni immobiliari e poi rifondare le quote ai possessori attenzione però perché in realtà oltre a questi tre anni di proroga c'è la possibilità se la società lo desidera al termine di questi tre anni di usufruire di altri tre anni di periodo di grazia si chiama in gergo tecnico anche questa è una facoltà della società però se da qual 2024 che è la prima proroga di tre anni la società non dovesse essere soddisfatta del piano di dismissioni può tranquillamente chiedere di usufruire il periodo di grazia di altri tre anni in questo caso si andrebbe al dicembre 2027 dal mio punto di vista secondo me dato il contesto generale la società utilizzerà sia questi tre anni e poi è probabile che utilizzerà anche gli altri quindi è un prodotto che o scade nel 2024 o scade nel 2027 io questo prodotto ve lo presento perché innanzitutto investe in immobili non l'ho detto ma è importante sottolineare italiani quindi da questo punto di vista attenzione perché stiamo parlando di un fondo immobiliare chiuso che investe nel panorama immobiliare italiano quindi se una persona ha già tanti immobili in saccoccia e spesso volentieri il portafoglio il patrimonio di una famiglia italiana media è sovraesposta all'immobiliare scusate questo forse non è un asset che serve cioè andreste a aumentare il rischio se però una persona non ha immobili in portafoglio se ne ha una dose ridotta e chi la vuole incrementare e non vuole comprare un immobile fisico con tutte le rotture di scatole ma soprattutto con la quantità di denaro che devi inserire vuoi comprare un appartamento 80 100 200 mila euro servono da investire per poi affittare ecco che in questo caso il fondo senza avere un lotto minimo in questo caso il lotto minimo è una quota questa costa 2 euro 2,15 quindi puoi comprare multipli di 2,15 ti permette di diversificare anche capitali estremamente ridotti quindi uno dice non voglio comprarmi un appartamento e mettere 100 mila euro su un costo voglio comprarne solo 10 mila euro e ti compri questo quindi questo è un prodotto che vi segnalo per quegli investitori che non sono sovraesposti al mercato immobiliare italiano che vogliono invece mettere qualche denaro qualche investimento nell'immobiliare italiano ma in modo estremamente contenuto e prudente e qui grazie all'otto minimo alla qualità delle dell'immobile e la buona gestione della società secondo me gli ingredienti ci sono quindi con tutte le precauzioni del caso secondo me questo è scusatemi questo è un prodotto che in certi casi può essere valutato non è un prodotto per tutti questo è l'evoluzione del prezzo delle quotazioni vedete è abbastanza ballerino come quotazione ma è abbastanza normale in linea con anche gli altri fondi quotati questo l'abbiamo già già detto serve che a livello di selezione serve una qualità degli immobili il dividend deal deve essere superiore a 3, 4, 5 secondi di punto di vista serve anche una qualità e una trasparenza della gestione in questo caso Mediolanum è corretto ci sono altre società che sono un pochino meno trasparenti da questo punto di vista in più serve che ci sia uno sconto sul tra il prezzo di mercato e il NAV almeno del 30% dicevamo e via ok queste sono tutte cose già viste allora siamo giunti al termine della conferenza spero che tu abbia ottenuto delle informazioni utili per da valutare per il tuo portafoglio prima di salutarti ti ricordo che se hai dei dubbi delle domande mi puoi iscrivere trovi il mio indirizzo qua sotto vdg.bellelli e sarò lieto di rispondere a tutti nei prossimi giorni ti segnalo che se hai delle domande me le puoi rivolgere oltre che email anche sul mio gruppo chiuso su facebook se tu vai su facebook e cerchi Gabriele Bellelli trading e investing che è il nome del gruppo chiuso lo trovi puoi chiedere l'iscrizione io sono lieto di accoglierti nel gruppo e quello può essere un luogo di confronto non solo per chiedere le informazioni a me ma anche per confrontarsi con altri investitori quindi con altri appassionati della materia ti ricordo che sto anche registrando domani mattina la registrazione sarà online quindi la potrai rivedere a piacimento e se gradisci ricevere le slide della presentazione è un piacere per me mandartele basta che mi mandi una mail sempre g.belle e nei prossimi giorni te le mando molto volentieri ok per questa sera è tutto io ti ringrazio per l'attenzione ti auguro una buona serata grazie a tutti per l'attenzione